Un pomeriggio. Allora, quest'ultima sessione del convegno è dedicata alle scenografie e ai costumi del teatro di Romagnoli, o per meglio dire, l'apporto dell'archeologia alle scenografie, agli arredi di scena, ai costumi. Direi che questa passione per l'archeologia fu coltivata da Romagnoli che anzi fu il primo forse a coniugare l'indagine letteraria con quella archeologica proprio per completare al meglio l'interpretazione dei testi classici. Questa passione aveva origine in parte dalla sua formazione, è stato più volte ripetuto nelle relazioni che abbiamo sentito questa mattina e ieri, la sua formazione presso l'archeologo Emanuele Levy. Ma direi che questo interesse per l'archeologia, per l'arte antica, venne anche alimentata anche grazie alle scoperte recenti di Sliman a Troia e Micene e di Paolo Orsi in Sicilia e in Mania Grecia. Come diceva la professoressa Valensise ieri mattina, sicuramente nell'Agamennone del 1914, beh, insomma, certamente la scena riprende moltissimo, dunque è ispirata certamente alle scoperte recenti che hanno venuto abbastanza recentemente dell'archeologo Sliman. Le due prime relazioni sono affidate a due giovani studiosi, giovani sì, ma che vantano già un curriculum di tutto rispetto, grazie ai loro studi e alle loro anche, diciamo, collaborazioni in istituti italiani, istituti di ricerca italiani ed esteri. Il professor, il dottor Brunetti, che inizierà appunto questo pomeriggio, è in possesso di due lauree, una in filologia classica Bologna e successivamente un'altra laurea in archeologia. Dal 2020 è dottore di ricerca presso l'IMT di Lucca, dove ha discusso una tesi sui disegni rinascimentali della volta dorata nella Domus Aurea Neroniana. Attualmente ha una borsa di studio post-doc presso la Biblioteca Erziana di Roma. I suoi interessi sono localizzati soprattutto sull'archeologia romana e sulla tradizione del classico nel Rinascimento, ma non solo. Infatti, proprio in questo ambito, entro la fine dell'anno, sarà pubblicato un suo volume proprio sui disegni rinascimentali della Domus Aurea Neroniana, grazie a un premio di pubblicazione del Max Planck Institute. A trascorso dei periodi di ricerca, in Italia e all'estero, presso istituti museali, quali l'uffizio a Firenze, il British Museum di Londra, i musei di Amsterdam e di Berlino. E anche numerose pubblicazioni proprio sulla ricezione dell'antico nella Spagna di Filippo II. Ci presenterà la sua relazione, appunto, che porta il titolo tra gesto e architettura, la scenografia e performance nelle rappresentazioni teatrali di Ettore Romagnoli. Prego. Grazie mille, gentilissima. Buonasera a tutti, quindi. Grazie per l'introduzione. E permettetemi innanzitutto di ringraziare l'Accademia degli Agiati per il gentile invito a partecipare a questa sessione del convegno. E vorrei rinvolgere un particolare ringraziamento, appunto, alla dottoressa Salomoni e alla professoressa Romagnoli per avermi concesso di studiare la documentazione fotografica relativa alle rappresentazioni teatrali di Ettore Romagnoli. In questo breve intervento vorrei affrontare il tema delle scenografie nelle tragedie dirette da Romagnoli. Ovviamente si tratta di un tema già non del tutto inedito, perché comunque furono curate da Duilio Cambellotti, noto artista poliedrico, caratterizzato da uno stile conturbante, potremmo dire, e riconducibile però sommariamente all'art nouveau. La figura di Cambellotti è senz'altro affascinante, dovrò scorrere in questo modo, ecco qua, è senz'altro affascinante non tanto per lo stile, ma soprattutto per la sua versatilità nei vari medium artistici, dalla ceramica all'incisione, dalla pittura alla scultura, dall'architettura al design. Tra l'altro una parte dell'archivio Cambellotti è proprio conservato al martedì Rovereto. Esistono tuttavia alcuni aspetti che ancora non sono stati sondati nel dettaglio, riguardano proprio il rapporto lavorativo tra Duilio Cambellotti ed Ettore Romagnoli. In questo intervento vorrei quindi concentrarmi proprio sull'esperienza siracusana di Romagnoli, in modo da evidenziare quale fosse la componente archeologica nell'elaborazione della scenografia, tema già in parte esplorato nel volume di Monica Centanni. Tuttavia vorrei soprattutto mettere in evidenza gli elementi che ci mostrano come Romagnoli doveva aver progettato e come doveva aver lavorato con i suoi collaboratori, in questo caso appunto Cambellotti. Il connubio siracusano tra i due infatti durò a lungo, dal 1914 con la rappresentazione della Gamennone fino al 1927 con la rappresentazione teatrale della Medea, della Medea, Nuvole, Ciclope e i Satiri alla Caccia. Nell'anno successivo l'incarico a Ettore Romagnoli verrà riepocato, mentre Duilio Cambellotti continuerà a curare le scenografie siracusane. Nell'arco di due anni infatti molte cose cambiarono per l'Istituto Nazionale per il Dramma Antico. Il 22 novembre del 28 viene revocato l'incarico a Ettore Romagnoli come direttore artistico e viene ratificato con decreto del Ministero dell'Educazione Nazionale. Nel marzo del 29 l'Istituto diventa un organo governativo alle dipendenze del Ministero dell'Educazione ed il capo del governo, Benito Mussolini, nomina Presidente dell'Istituto Biagio Pace al posto di Mario Tommaso Gargallo. Da quel momento in poi scompare la figura del direttore artistico e non a caso non viene nominata nelle locandine delle rappresentazioni. In questo senso la progettazione e l'organizzazione delle rappresentazioni teatrali risulterà dalla collaborazione tra il Presidente dell'Istituto, Biagio Pace, lo scenografo Duilio Cambellotti e il primo attore nonché direttore scenico Corrado Racca. Di qui in avanti cambierà radicalmente anche il modo di rappresentare le scene e Cambellotti potrà accentuare quegli aspetti che lo avevano finora allontanato da Romagnoli. Come vedremo tra poco, oltre alla documentazione epistolare, lo scritto di Cambellotti intitolato La scena nelle rievocazioni classiche del 1936 riveste un ruolo importante per capire quale fosse la divergenza tra Cambellotti stesso e Romagnoli nel rappresentare il dramma antico. All'origine della collaborazione tra i due fu Paolo Orsi, l'archeologo e sovrintendente delle antichità a Siracusa, suggerì infatti a Mario Tommaso Gargallo il nome di Romagnoli per la traduzione del primo dramma messo in scena, La Gamennone di Eschilo. A Romagnoli venne perciò affidata la direzione artistica e le musiche. Il nome di Romagnoli venne suggerito a seguito delle sue precedenti esperienze nella rappresentazione delle nuvole di Aristofane al Verdi di Padova e al Teatro del Popolo a Milano. A Milano, infatti, nonostante l'ostilità degli ambienti accademici, fece rappresentare le baccanti, le nuvole, l'alceste e il ciclope. Tuttavia, sin dalla primissima esperienza siracusana, Romagnoli era consapevole dell'inutilità nel rappresentare un dramma antico in vesti puramente archeologiche. E infatti, egli scrive, Sin da subito ebbi fermo il proposito che nessun patto conveniva fare una ricostruzione archeologica. A me sembrava, e sembra, che nella sua parte sostanziale il teatro greco fosse cosa non morta, bensì viva, e per noi italiani vivissima, e perciò convenisse non presentarla in bende funebri, bensì rispuoterla dal secolare letargo. La collaborazione tra Romagnoli e Cambellotti nacque proprio perché Mario Tommaso Gargallo richiese a Duili Cambellotti di collaborare. Tuttavia, per motivi di lavoro, Cambellotti non riuscì a raggiungere Siracusa per la prima rappresentazione teatrale del 16 aprile 1914. Manda perciò un bozzetto della scenografia che però era talmente ambizioso e costoso che dovette essere ridimensionato notevolmente. Già all'epoca Cambellotti non manca di far notare a Gargallo nella sua corrispondenza epistolare un mancato supporto da parte di Romagnoli. In una lettera all'archivio Fondazione Inda, Cambellotti scrive a Gargallo «Ricevo qui contemporaneamente una sua lettera ed altre del prof Romagnoli. Ricevetti già prima anche a parte la pianta del teatro di Siracusa, ma a dir vero aspettavo qualche cenno dal Romagnoli nonché qualche dato in proposito. Eseguirò tale bozzetto in grande dimensione e potrò consegnarlo alla fine del mese dietro compenso di lire 300. Mi sappia dire se tali condizioni saranno accettate». Questo passo, oltre a mettere già in luce un problema di comunicazione tra Romagnoli e Cambellotti che diverrà poi stridente negli anni successivi, serve a sottolineare un aspetto importante. La realizzazione scenografica era sì ideata da Cambellotti e poi verificata da Romagnoli, ma doveva comunque passare per il vaglio di Gargallo anche per un fatto meramente economico. Questo aspetto, seppur apparentemente scontato, deve essere tenuto a mente per quanto accadrà dopo il 1922 quando si osserva un cambio di stile per le scenografie ideate da Cambellotti. Infatti la scelta e la realizzazione della scenografia era proprio dovuta all'equilibrio tra le tre personalità. La rappresentazione della Gamennone del 1914 riscuote grande successo e la scenografia riproduce la piazza di Argo delimitata da alte mura ciclopiche. I riferimenti archeologici sono chiari, la porta dei leoni di Micene che segna l'ingresso alla città, le mura decorate con un freggio bronzeo, quindi la porta dei leoni di Micene che segna l'ingresso alla città, le mura decorate con un freggio bronzeo, a reosoni e a triglifi. A destra la reggia degli Atridi, affiancata da una torre di 13 metri, segue il modello del megaron di Micene. La rappresentazione della Gamennone ha un grande successo, i suoi riferimenti archeologici sono chiari, la porta dei leoni di Micene segna l'ingresso alla città, le mura decorate con freggio bronzeo, a reosoni e triglifi e poi a destra la reggia degli Atridi, affiancata da una torre di 13 metri, segue il modello del megaron di Micene. Tali riferimenti archeologici non erano casuali, infatti non erano passati molti anni, dal 1874 all'85, quando Schliemann apre gli scavi a Micene e a Tirinto, seguendo le tracce di alcuni testi letterari come Pausani e Omero. Questo stile delle prime rappresentazioni, appunto detto archeologico, sarà poi condannato dallo stesso Cambellotti, che dirà, fu un equivoco, perché quella Grecia barbarica, emersa dagli scavi predetti, era cosa ignota ai tragici della Grecia storica. È difficile dire in quanto, in questa prima rappresentazione, ci sia di Cambellotti e di Romagnoli, è vero che nella biblioteca dell'artista compaiono libri quali L'histoire de l'art dall'antichité di Georges Perrault e Charles Chepier, che tra l'altro Cambellotti cita nei suoi scritti. Sicuramente però in questa prima fase l'opinione del direttore artistico doveva aver giocato un ruolo non marginale. Nel suo scritto però, introduzione ad un album di scenografie del 1943, Cambellotti ammette, non nego che seguì un po' quello che in altri casi, in altri posti, si era fatto, che del resto trovò anche ogni approvazione di tutti. Un po' di cognizione archeologica valorata dal mio viaggio in Grecia mi rubò la mano e l'arte micenaica dominò in questi spettacoli. Anche se la rappresentazione teatrale ebbe successo, il fatto che Cambellotti non conoscesse bene il teatro di Siracusa lo portò inevitabilmente a commettere alcuni errori che poi evitò invece in seguito, come la creazione di un unico piano d'azione, nel senso che la scena coincide con l'orchestra, e l'eccessiva apertura della scena stessa. Quest'ultimo aspetto, infatti, determinò un arruolamento massiccio delle comparse e quindi una perdita di centralità degli attori principali. Dopo l'interruzione del primo conflitto mondiale nel 1921, il Comitato degli Spettacoli vuole mantenere una continuità tematica con il XIV e sceglie perciò la seconda tragedia della trilogia ischilea, ossia le coefore. In questo caso Cambellotti viene incaricato sia della scenografia ma anche della locandina, dei costumi e dei progetti per il movimento scenico. Il rapporto tra Romagnoli e Cambellotti è difficile da cogliere in questa fase. Romagnoli sicuramente doveva aver avanzato alcune richieste senza particolari specifiche, come nel caso dei costumi. In una lettera di Cambellotti a Gargallo l'artista scrive Il romagnolo mi apprende in una lettera il numero dei costumi necessario per dir meglio il numero dei figurini. Saranno una dozzina di cui alcuni contenenti più figure. Poiché alcuni figurini debbono esprimere masse di persone più che persone singole sarà un lavoro che toccherà le mille lire. P.S. le prevengo che da oggi, 22, io sono ritornato a Roma. Sarei grato a lei se potessi avere la fotografia del teatro di Siracusa. Ecco che anche in questa seconda circostanza Cambellotti non visita il teatro di Siracusa e chiede quindi una documentazione fotografica del teatro stesso. Inoltre, nella commissione avanzata da Romagnoli per i costumi, Cambellotti non specifica ulteriori dettagli a Gargallo. Questo passo può dunque aiutarci a capire un altro aspetto della progettazione della scenografia, di cui poi Sara Troiani se ne parlerà più diffusamente. Cambellotti parla spesso nelle sue lettere di figurini, ma solo nel 1945 formulerà per esteso la sua idea di figurino, che poi nella sostanza è un bozzetto del costume. Il figurino... Purtroppo non si vede interno... Il figurino completo deve dare il personaggio in forma e colore dalla cima dei capelli alla punta dei piedi, ma anche deve esprimere qualche cosa di interiore. Dovrà fissare insieme con la veste, col colore, col taglio, il modo di portarlo, insieme a tutto ciò l'espressione generale che è tutta l'indole del personaggio. In un qualche modo dunque non si trattava di un semplice bozzetto che rappresentava un costume, ma costituiva anche la rappresentazione visiva di un carattere, di un personaggio della scena. Anche nella scenografia delle coeffere del 1921 si ripropone un contesto molto vicino al mondo archeologico dei palazzi preellenici. I riferimenti all'archeologia riguardano anche i contenitori per le offerte recati dalle donne in lutto al seguito di Elettra, ossia coppe schifo e i micenei. Nella scena si vede la casa degli Atridi in rosso oscuro, sovrastata da una torre. A sinistra si trova la tomba di Agamennone alle cui spalle si innalza una stela sormontata da una sfinge con le ali spiegate. Al centro una fontana di stile miceneo divide la scena ma anche l'azione tragica, visto che a sinistra si svolgeranno i primi episodi e a destra il matricidio. Nella rassegna stampa del 1921 questa volta Romagnoli però esprime la voluta scelta di rendere uno spiazzo grande davanti agli spettatori. E infatti Elis dice Da tutte le vie che sbocciano qui si vedono irrompere centinaia e centinaia di uomini e di donne, di fanciulli e anche di contadini. Si ha l'impressione che tutta una città si precipiti verso l'orribile scempio. Si vedono così le donne che vengono ad attingere acqua, le giovenche e le mandre di pecora che tornano agli ovili, le ancelle che escono dalla reggia e accendono grandi fuochi su pilastri, le guardie che vanno a chiudere le porte. Stando quindi alle parole dello stesso Cambellotti il modo di concepire la scenografia cambiò radicalmente con l'osservazione diretta del teatro di Siracusa. Egli infatti scrive fu appunto dopo l'esperimento per me erroneo della Gamennone del 1914 e delle Coeferre del 1921 che iniziai la mia vera collaborazione di cui posso assumere la paternità col duplice spettacolo del 1922. In occasione del ciclo degli spettacoli del 22 infatti il comitato scelse di non continuare la trilogia schilea ma di rappresentare le dipore di Sofocle e le baccanti di Euripide. Nella slide che vedete e precisamente nella parte superiore vedete un bozzetto conservato all'archivio Cambellotti che l'artista utilizzò per studiare il movimento scenico delle figure ai piedi della rampa centrale. Cambellotti era anche infatti molto attento al rapporto tra figura e scenografia come pure tra la scenografia e la natura siracusana che circondava il teatro. Sotto invece vedete il plastico in gesso della scena conservato all'archivio Inda. L'ambientazione rappresenta l'acropoli di Tebe chiusa da una cinta muraria che si apre solo per l'inserimento della reggia. Quest'ultima rappresenta forti somiglianze con il palazzo di Festos per la presenza di due rampe di accesso. Attraverso questa soluzione spaziale si evitava la presenza di un unico piano per l'azione tragica e si valorizzava anche la performance su entrambi i livelli della scena. Se però nell'Agamennone e nelle coefore si nota una preminenza della cultura micenea nelle rappresentazioni del 22 subentra la componente archeologica siceliota. Infatti anche in questo caso i riferimenti archeologici non sono pochi e casuali. Si trovano infatti nella decorazione della reggia di Edipo con la rappresentazione di una lotta tra due leoni e una lotta tra un leone e un toro. Tale soggetto si trovava in un'arula fittile del Museo di Siracusa come mostrato da Giuseppina Norcia. Anche la testa anguicrinita della gorgone è elemento desunto dalla gorgone di Gela conservata al Museo archeologico regionale Paolo Orsi. Quest'ultimo elemento è la sfinge con le ali spiegate vengono poi tolti per segnare il cambio di scena dalle diporea alle baccanti. Per le baccanti viene aggiunta a destra la fonte di Dirce e a sinistra la tomba di Semele che vedete segnalate con le frecce bianche. Nelle baccanti l'uso sapiente della musica e della coreografia valorizzano particolarmente il nuovo allestimento su due piani rendendo la scenografia ancora più monumentale e solenne. La scenografia del 22 fu di particolare successo per Cambellotti che si vide riconoscere per il tramite di Gargallo parole di stima dallo stesso re Vittorio Emanuele III in un certo senso considerato il difficile rapporto tra Cambellotti e Romagnoli che vedremo meglio in seguito a questo crescere di notorietà di Cambellotti possiamo forse trovare degli indizi nella scelta del 28 di revocare l'incarico di direzione artistica Romagnoli ovviamente sono solo ipotesi in ogni caso Cambellotti parla del 22 come dell'anno in cui cambia il modo di concepire la scena da orizzontale a verticale ma anche del momento in cui il citazionismo archeologico non è più presente come prima in effetti a partire dalle scenografie del 24 si osserve un progressivo processo di semplificazione e astrazione per l'anno in questione si decide di continuare il racconto dei Labdacidi e vengono perciò scelte le tragedie dei Sette contro Tebe e l'Antigone per l'occasione le due tragedie vengono rappresentate nello stesso giorno in modo da ottemperare l'antica tradizione della conseguenziale rappresentazione narrativa il drama di Eschilo viene perciò interrotto nel momento della morte dei figli di Edipo da quanto si evince in una lettera di Gargallo a Cambellotti si vuole rappresentare e cito uno spettacolo completo ed arte in un certo qual modo sembra riecheggiare il leitmotif del vortondrama wagneriano le rappresentazioni continuarono per due giorni oltre il limite fino al 13 maggio per dare tempo a Mussolini di assistere alla messa in scena nella slide vedete due bozzetti di Cambellotti sopra dall'archivio omonimo e sotto un plastico dall'archivio Inda quest'ultimo diverrà la scenografia messa poi in scena e possiamo vedere come le idee quasi astrattiste di Cambellotti dovevano essere state mediate in un qualche modo da una ricostruzione più storicizzata forse ipotesi richiesta dallo stesso Romagnoli nella sua versione definitiva la scenografia rappresentava la città di Tebe con le sette torri la reggia assumiva connotati molto sovri ma anche severi nelle sue forme quasi evocare lo stile poetico Eschileo i riferimenti archeologici possono dirsi quasi assenti se non per l'imitazione dell'opera isodoma tipica del bronzo finale il bronzo è l'elemento che non a caso più si coglie nella scarna decorazione come nelle grandi borchiature delle mure e delle torri ricollegandosi così alle mura di Tirinto come lo stesso Cambellotti dice nello scritto introduzione ad un album di scenografia da una lettera conservata all'archivio Inda successiva il 31 marzo 24 si legge che Romagnoli chiede a Cambellotti per il tramite di Gargallo la presenza del maggior numero di passaggi tra i livelli della scenografia per permettere i numerosi movimenti della scena il fatto che la lettera di Romagnoli venisse mandata a Gargallo e non direttamente a Cambellotti poteva dipendere da due motivi essenzialmente o i due non potevano comunicare direttamente per fatti logistici oppure Gargallo esercitava sempre un ruolo di mediatore sicuramente tramite la documentazione pubblicata da Pedersoli sappiamo che in questa circostanza Romagnoli e Cambellotti si scontrarono su alcuni punti per esempio la collocazione delle otto statue degli dei protettrici della città eccitate nella parodo della tragedia per Romagnoli dovevano trovarsi al centro della scena ma Cambellotti contesta la presenza di statue per alludere al momento di preghiera in una lettera a Gargallo Cambellotti scrive non capisco come Romagnoli non rifletta che in linea generale si invoca una divinità senza avere la divinità davanti una nostra donna del popolo invoca in molti casi della vita la Vergine Maria la Maria Vergine e il più delle volte non sta in cospetto dell'immagine di essa Cambellotti propone quindi di ridurre il numero delle statue dalle otto alle quattro cinque e suggerisce di collocarle sul muro di fondo alla fine si arrivò a un compromesso si scelse di collocare sette statue come le porte della città raccruppandole a destra della scena l'insoddisfazione di Cambellotti per le richieste dei Romagnoli furono ancora più palesi quando nel 27 le due scenografie vennero riproposte a Ostia da Cambellotti stesso ma con notevoli modifiche per i costumi Romagnoli invece diede libera scelta a Cambellotti purché prendesse e cito tutti gli elementi delle arti orientali e orientalizzanti che tu conosci a menadito nel processo di astrazione di distacco dal riferimento archeologico le rappresentazioni del 27 segnano un momento di passaggio a seguito del fatto che il 7 agosto del 27 il comitato per le rappresentazioni è trasformato in ente morale nazionale si rappresentano eccezionalmente quattro opere la medea le nuvole il ciclope e i satiri alla caccia tale scelta comportava per forza di cose l'assenza di riferimenti troppo precisi ai testi letterari la struttura di base è perciò quella di una caverna il cui ingresso è disegnato in modo da richiamare le fattezze dell'occhio di Polifemo la struttura presenta inoltre due avancorpi e una gradinata circolare divenendo quindi la struttura di base utilizzata per il ciclope della rappresentazione della medea si aggiunge un lungo stilobate scorrevole che copriva tutta la caverna e appariva decorato con edifici per alludere la casa di medea ai lati comparivano scene riferibili alle vicende degli argonauti per coprire il passaggio da una scena all'altra vennero utilizzati giochi di fumo poi riempiegati per le scene di magia di medea per le nuvole invece lo stilobate è sostituito da pannelli strutturati cubicamente che rappresentavano la città di Atene con il partenone sullo sfondo il tutto appariva quasi con un carattere caricaturale una peculiarità assoluta di questa rappresentazione è l'uso delle maschere secondo l'uso antico nel passaggio ai satiri alla caccia si torna al movimento scorrevole dei pannelli e il ritorno della scena del ciclope con la sola variante che si mantiene chiuso l'occhio del ciclope al centro della caverna a quanto si vince dalla rassegna stampa per gli spettacoli della rassegna stampa gli spettacoli convinsero più i critici che il pubblico l'aspetto più interessante in quest'anno è proprio la rottura del sodalizio che abbiamo visto finora precario tra Cambellotti e Romagnoli in una lettera di Cambellotti a Gargallo l'artista confessa è certo che Romagnoli nel suggerire i quattro spettacoli li ha considerati a coppia e ha detto mi par di sentirlo che la scena della prima coppia di spettacoli è buona anche per la seconda ma io non la penso come lui e in tutto ciò vedo degli urti dei conflitti estetici insormontabili non a caso di lì a poco sia l'anno successivo l'incarico di Ettore Romagnoli come direttore artistico verrà revocato mentre Duilio Cambellotti continuerà a curare le scenografie siracusane ovviamente Romagnoli venne coinvolto anche al di fuori di Siracusa e in altre rappresentazioni come l'Alcestia Pompei nel maggio del 27 l'Alcestia d'Agrigento nel maggio del 28 l'Alcestia il mistero di Persephone all'Icinium di Erba nell'agosto-settembre del 29 tuttavia qui la presenza monumentale dei tempi sullo sfondo ad Agrigento e le ristrette dimensioni dei teatri non permetteva quella sperimentazione che invece il teatro greco di Siracusa offriva ecco che quindi per tirare un po' le fila del discorso potremmo dire che i riferimenti archeologici sono ovviamente più evidenti nelle prime rappresentazioni siracusane per il portato innovativo che tale sperimento teatrale comportava tuttavia come abbiamo visto sia Cambellotti che Romagnoli erano contrari ad ogni forma di fredda riavocazione archeologica sicuramente l'indole più sperimentale di Cambellotti aveva spinto l'artista a tenere una maggiore distanza dal testo letterario come si è visto nel caso dei Sette Controtebe tuttavia per quanto non sempre semplice la collaborazione tra i due aveva portato dei risultati sorprendenti dei quali siamo qui ancora oggi a parlarne grazie grazie rimandiamo alla discussione al termine e chiedo a Sara Troiani di avvicinarsi Sara Troiani è molto conosciuta nell'ambiente anche perché ha lavorato moltissimo sul teatro di Ettore Romagnoli quindi in breve la presento per quei pochi che non la conoscono Sara ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università di Trento nel 2020 i suoi interessi riguardano la musica greca antica il nuovo di tirambo e la ricezione del dramma greco dall'antichità all'età contemporanea ha collaborato a Trento con il laboratorio Dionysos è stata all'archivio ha lavorato all'archivio del dramma greco e romano di Oxford attualmente è a senista di ricerca presso il centro di studi classici umanistici della Università di Coimbra e delle sue numerose pubblicazioni cito soltanto diciamo le ultime e che riguardano appunto il teatro di Romagnoli allora nel 2019 ha partecipato al precedente convegno su Romagnoli traduttore dei poeti con una relazione dal titolo tra esegesi e regia le traduzioni di Ettore Romagnoli per il teatro antico e questa sua relazione la potete trovare appunto nel volume degli atti che è appena stato pubblicato poi ancora per la rivista Dionysus Ex Machina nel 2020 ha presentato un saggio su Ettore Romagnoli e il teatro universitario i primi sviluppi di una nuova ideologia drammatica tra ellenismo artistico e stimoli internazionali nel 2021 esattamente nel mese di marzo ha partecipato a un'iniziativa del centro interuniversitario di ricerca e studi sulla tradizione in collaborazione con la biblioteca civica di Roveretto e ha presentato appunto una relazione dal titolo l'archivio Romagnoli e la ricostruzione degli spettacoli teatrali tra le sue ehm ehm sì degli spettacoli teatrali chiedo scusa bene oggi invece ci parlerà di una Grecia romantica e barbara disordinata e colorata il contributo dell'arte antica i costumi teatrali nelle rappresentazioni classiche di Ettore Romagnoli grazie Patrizia per la generosa presentazione e ringrazio ci tengo anche a ringraziare la famiglia Romagnoli che è ancora qui con noi eh questo pomeriggio anche per la donazione ma anche per vedremo fra poco per alcune fotografie dei costumi originali eh del che probabilmente fanno fanno riferimento all'esperienza di teatro universitario di Ettore Romagnoli questa relazione che non è esaustiva naturalmente ma prenderà in considerazione alcune delle influenze che i Romagnoli ebbe eh riguardo gli studi di archeologia e le scoperte come anche ha eh anticipato eh Marco Brunetti nella sua relazione appunto le più recenti scoperte archeologiche del suo tempo e poi cercheremo cercherò di ehm dimostrare di tirare le fila su come queste scoperte questi studi archeologici hanno influenzato appunto la composizione dei costumi secondo secondo l'opinione di Ettore Paratore Romagnoli fu il primo in Italia a inaugurare il metodo oltre modo proficuo dell'abbinamento di due indagini quella dedicata ai testi letterari e quella volta allo studio delle arti figurative il grecista dimostra infatti di possedere una profonda competenza in merito alle scoperte archeologiche del suo tempo sfruttando copiosamente le testimonianze delle pitture vascolari nei suoi studi specialistici nei saggi divulgativi nonché anche sugli articoli di giornale simile attenzione all'arte antica nasce in Romagnoli molto probabilmente anche dalla sua esperienza come assistente d'archeologo viennese professore di archeologia e storia dell'arte antica alla Regione Università di Roma Emanuellovi come ha ricordato Patricio ma anche ieri il professor Piras Emanuellovi che si formò nella sua città natale con Alexander Conze Otto Ischved e Otto Bendorf svolgendo anche numerosi viaggi in Grecia Italia Elicia e acquisendo un metodo di scavo aggiornato insieme all'impostazione dello studio fondata sull'archeologhi der Kunst la nomina di Lovi come docente presso l'Ateneo Romano nel 1889 rappresentò di fatto e prendo in prestito le parole di Marcello Barbanera la risposta degli antichisti italiani ai reiterati dibattiti sulla questione del rinnovamento dell'archeologia sulla scia dell'aggiornamento degli studi classici avviato dagli anni settanta del 1800 circa il metodo filologico promosso oltrarpe era stato accolto nella formazione dei classicisti anche grazie alla consuetudine da parte di studiosi italiani di trascorrere soggiorni di studio nelle maggiori università tedesche e austriache e viceversa anche attraverso la convocazione da Germania e Austria di parte del corpo docente universitario nonché anche ginnasiale liceale anche nell'ambito dell'archeologia classica prendo prestito le parole di momigliano si adottò il principio di andare a scuola dai tedeschi per procedere ad uno svecchiamento dei metodi di indagine all'epoca desunti dall'antiquaria anche se non totalmente come ricostruito da Marcello Barbanera l'assegnazione della cattedra romana a Lobi segnò il corso dell'insegnamento dell'archeologia classica in Italia a concorrere per il posto si era infatti presentato anche il roveretano Paolo Orsi il quale pur avendo frequentato negli anni della sua formazione anche a Vienna gli stessi maestri di Lobi fu in seguito influenzato dall'incontro a Roma con Luigi Pigorini archeologo preistorico che lo avviò ad una carriera di scavo e attività sul campo proseguita con successo in Sicilia dove prima come ispettore e poi anche come sovrintendente del museo archeologico di Siracusa portò alla luce le vestigia della civiltà sicura di epoca precoloniale nonostante l'archeologia preistorica in Italia potesse quindi offrire un approccio alternativo per lo sviluppo dell'archeologia classica come scienza si preferì adottare la più nobile consolidata tradizione della storia dell'arte che trovava in Lobi un qualificato rappresentante dei più aggiornati metodi di insegnamento ricerca e non dimentichiamoci anche di scavo a livello europeo nella prolusione nel 9 gennaio del 1890 Lobi espose ed illustrò il progetto scientifico desdattico del proprio insegnamento a Roma soffermandosi sulla necessaria attenzione da rivolgere all'interpretazione del contesto culturale da cui derivavano i prodotti dell'arte figurativa antica la disciplina preposta a simile analisi cioè l'archeologia veniva intesa come sintesi tra la ricerca filologica da cui traeva il rigore metodologico e la storia dell'arte elemento dei più importanti della cultura nazionale come dice Lobi l'archeologia ha un aspetto doppio in essa si incrociano le sfere di due scienze una delle quali la filologia si propone di ricostruire l'antichità in tutte le sue manifestazioni nella sua storia nelle sue istituzioni nella sua letteratura e anche nella sua arte mentre l'altra la storia dell'arte nei monumenti di ogni epoca non guarda altro che la parte artistica li studia perché sono prodotti dell'arte manifestazioni d'uno dei lati dell'ingegno dell'uomo al pare di tanti altri degno dell'osservazione scientifica per quanto riguarda la didattica Lobi cominciò fin da subito adottare il proprio gabinetto archeologico di una biblioteca e di una raccolta di diapositive fino a creare nel 1892 il museo dei Gessi che all'epoca aveva sede al testaccio queste iniziative erano rivolte a sviluppare la ricerca e lo studio dell'arte antica attraverso l'anschauung cioè l'osservazione diretta di manufacchi e sculture per comprenderne inanzi tutto lo sviluppo storico geografico e in questo caso presa a modello naturalmente la pratica ormai largamente diffusa nelle università soprattutto europee nei seminari di archeologia e nei collegi del Regno Unito di allestire gipsoteche e musei in ausilio alla didattica inoltre Lobi non si limitò a considerare nelle sue nei suoi studi ma anche nelle sue lezioni l'arte plastica greca di quinto e quarto secolo avanti Cristo quale momento culminante dell'attività artistica dei greci secondo una visione che potremmo dire vinkelmaniana anzi rivolse il proprio interesse verso le manifestazioni artistiche delle origini indagando i motivi psicologici che potevano aver determinato alcune scelte piuttosto che altre da queste pur brevi premesse appare chiaro come la collaborazione con Lobi non solo poteva incrociare alcuni dei principali interessi del romagnolo grecista quali l'indagine sugli elementi anonimi e popolari nella letteratura e nell'arte da lui coltivata fin dalle prime ricerche accademiche ma contribuì a sviluppare in un certo senso le sue idee circa la formazione artistica dei classicisti idee che troveranno il loro progetto nel citatissimo discorso di questi giorni la diffusione della cultura classica letto appunto nel 1911 durante il quarto convegno di Atene Roma il programma di formazione dei futuri classicisti come delineato da Romagnoli si basava oltre anche che sulla rinascita del teatro greco sullo studio della poesia greca in indissolubile relazione agli aspetti ritmico musicali e alle arti figurative al fine di predisporre l'elaborazione di studi critici e traduzioni rivolti principalmente a un pubblico specialista e leggiamo qui le considerazioni di Romagnoli circa appunto lo studio dell'arte antica in tutte le scuole di cultura classica superiori e inferiori bisogna aprire le porte e le finestre allo studio delle arti figurate greche Omero e l'arte micenea Pindalo e la scultura Teocrito e l'arte e l'essandrina devono andare di pari passo immagini e parole devono continuamente completarsi e illuminarsi a vicenda essere non due ma uno nessun commento per quanto eloquente potrà darvi del mondo ellenico potrà darvi una visione del mondo ellenico quanto la solennità dei diruti palagi di Creta la semplice vita gagliarda e florida dei bassorilievi degli intagli micenei e quegli intrecci e grovigli e stilizzazioni di farfalle di fiori di polipi di alige in cui palpita la stessa aria la stessa luce che circola fra sillaba e sillabra negli armoniosi esametri dell'Odissea il grecista avanza in questo discorso la possibilità di introdurre in ogni ordine grado del sistema di istruzione italiano l'insegnamento dell'arte figurata greca non solo a livello teorico ma anche tramite la visione diretta dei manufatti per questo motivo si sarebbe resa necessaria dice Romagnoli la fondazione di musei all'interno di università e centri di ricerca nonché la pubblicazione di cataloghi sulle raffigurazioni vascolari che lui dice essere il più vivo ed efficace commento della vita e della letteratura greca a fronte di queste dichiarazioni dunque appare evidente come la lezione di Lovi sia stata appresa e in vari modi perseguita da Romagnoli nella sua attività di studioso e divulgatore della cultura antica i saggi le traduzioni ripetiamo sono spesso arricchiti da immagini tratte dalle figure vascolari mentre con la pubblicazione della collana i poeti greci tradotti da Ettore Romagnoli per Zanichelli i grecista si avvalse anche delle illustrazioni a tema antico degli incisori Adolfo De Carolis e Antonello Moroni quale commento visivo potremmo dire ai testi oltre al discorso del quarto convegno dei classicisti un'altra lettura pubblica di pochi anni precedenti risulta illuminante per comprendere l'importanza che Romagnoli attribuisce allo studio dell'arte antica in relazione alla ricerca filologico-letteraria si tratta della prolusione letta all'Università di Catania nel 1906 dal titolo Fasi storiche nella concezione dell'ellenismo in questo testo Romagnoli non mostra ancora il sentimento potremmo dire tedescofobo che ne contraddistinguerà la successiva fase antifilologica anzi egli attribuisce alla Germania la gloria di aver svelato al mondo l'ellenismo chissà se non è anche perché dirigeva il corso di letteratura tedesca proprio a Catania questo elogio della Germania quindi attribuisce alla Germania la gloria di aver svelato al mondo l'ellenismo sottolineando come e qui probabilmente anche riprendendo una prolusione del suo maestro Neapicolomini come la riforma luterana diede effettivamente l'impulso allo sviluppo del metodo scientifico per dice Romagnoli l'affinità condivisa con il vero spirito dell'arte ellenica il quale di libertà e di indipendenza intellettuale contrariamente all'umanesimo italiano che sorto sulla barbarie teologica tuona Romagnoli imponeva un'imitazione moraleggiante quindi un'interpretazione fuorviante dell'antichità classica tra gli studiosi sempre nella prolusione che a sua opinione scontribuirono a rivelare l'autentico volto della civiltà greca Romagnoli cita i contributi di Winckelmann e dell'imprenditore archeologo Heinrich Schliemann quest'ultimo d'altronde aveva contribuito insieme a Nietzsche a ridimensionare in un certo senso il primato della filologia negli studi classici tedeschi e riprendo alcune sempre di nuovo alcune considerazioni di Barba Nera la critica niciana da un l'altro recuperava per certi aspetti la lezione di Winckelmann poiché rivendicava la classicità uno spirito pulsante una nuova vitalità accusando i classicisti di averla spenta sotto i loro angusti interessi accademici dall'altro le campagne di Schliemann riportavano alla luce una civiltà su cui le fonti non avevano dato pressoché informazioni e sulla quale non erano più applicabili le categorie estetiche elaborate sulla grecità classica la citazione di Schliemann da parte di Romagnoli nonché nello stesso testo della conferenza anche una velata allusione a Nietzsche confermano in un certo senso il fascino suscitato dalle scoperte dell'archeologo in tutta Europa abbiamo visto stamattina Giovanna Di Martino che ci ha presentato una carrellata appunto di immagini sulle influenze delle scoperte a Micene nelle rappresentazioni ad esempio anglosassoni e in Italia sarà ad esempio Gabriele D'Annunzio rielaborare nella città morta la nuova visione della grecità che proveniva dalle notizie di Scavia Troia e nella Grecia continentale anche grazie alla scenografia di Francesco Michetti ed Enrico Del Debbio che riproduceva in lontananza la Porta dei Leoni inoltre alle scoperte di Schliemann si affiancarono in quegli stessi anni più o meno gli Scavia Di Knosso da parte di Arthur Evans negli anni 90 dell'Ottocento nonché le missioni a Creta dell'archeologo ed epigrafista roveritano Federico Albert il quale ad esempio nel 1885 esplorò l'antroideo identificando la presenza di scudi e timpani bronzei di tipo orientalizzante successivamente pubblicati insieme ad Orsi tra l'altro dal 1899 Albert guidò la missione archeologica italiana di Creta che coinvolse numerosissimi archeologi tra i quali si annovera anche Antonio Taramelli che durante l'esplorazione dell'antro di Camares rinvenne le celebri ceramiche dell'omonimo stile e sempre verso la fine dell'Ottocento le pubblicazioni dedicate alla cosiddette arte primitiva greca che veniva identificata con l'arte micenea almeno all'epoca ancora sono svariate come il catalogo Micheni Schenvasen edito da Furtwengle e Lusche o lo studio prima ricordato di Schipier Perrault il cui sesto volume era appunto dedicato all'arte micenea l'arte greca quindi sia quella statuaria monumentale che quella delle pitture ceramiche avrebbe quindi ripestito nell'ottica di Romagnoli un ruolo principe per l'interpretazione dei fatti letterali svincolandoli da un classicismo di maniera come lui dice grazie al contributo di quelle che all'epoca erano le più recenti scoperte archeologiche e afferma sempre nella prolusione anche la semplice analisi letteraria spezzate le lenti bizzarramente deformatrici del convenzionalismo critico schiude oggi nuove profonde vedute l'epopea la lirica la tragedia ogni produzione letteraria appariscono in aspetti nuovi e si staccano dall'isolamento che sembrava irrigidirli per associarsi con vibrazione simpatica a fenomeni della universale letteratura e dissipata la lebbia dalle nostre pupille quasi ogni opera letteraria dell'Ellade lascia cadere il suo drappeggio classico e rivela ora la viva sprezzatura popolaresca ora l'accesa policromia o la sognante sfumatura romantica la scelta delle parole di Romagnoli sembra quasi preludere ad analoga affermazione di Renato Serra nelle pagine pubblicate postume con il titolo intorno al modo di leggere i greci che abbiamo visto anche stamattina con Giovanna e queste pagine furono presumibilmente scritte tra il 1908 e il 1909 cioè nei medesimi anni in cui Romagnoli stava postulando il solenesimo artistico il pensiero di Serra in questi articoli si rivolge criticamente alle traduzioni delle irici greci a lui contemporanea in special modo quelle di Fraccaroli ma non dimentica anche di attaccare Romagnoli e Pascoli perché queste traduzioni forviavano l'immagine dei poeti antichi e riflettevano la nuova interpretazione della Grecia antica che in quegli anni si andava a diffondere dice Serra quel che costituisce la Grecia per un uomo di cultura mezzana oggi è pressapoco anche quello che la costituiva per i nostri padri ricordi scolastici un po' domero dei tragici e dei lirici frammenti di filosofia e solenità morali aneddoti degli uomini e dei costume e una serie di immagini plastiche che va dal Partenone e dai tempi di Sicilia fino ai calchi dei musei e alle cartoline illustrate della Venere di Milo aggiungete pure un poco di ori di micene di statuette di Tanagra o di Creta non è questo quello che conti quel che conta è la disposizione dell'animo nella nostra Grecia si può dire che non c'è più nulla di umanistico e di retorico quindi piace la Grecia piace come romantica e barbara disordinata e colorata piace soprattutto nella sua realtà autentica nel suo sapore come dicono di cosa vissuta l'ideale scolastico fatto di parole di figure ritoriche che illuminava la Grecia degli umanisti è tramontato di là dei monti la Grecia che ci tocca oggi è una Grecia di cose schietta autentica e nuda le considerazioni svolte finora permettono di comprendere meglio come romagnoli quindi imposti la confezione dei costumi teatrali specialmente per gli spettacoli di drammaturgia antica che condusse con gli studenti dell'università di Padova e con i primi due allestimenti siracusani da un lato la testimonianza delle raffigurazioni vascolari offrì al grecista un modello su cui elaborare i costume dei personaggi sia tragici che comici dall'altro le scoperte archeologiche di epoca minoico-micenea stimolarono l'immaginario dello studioso e del suo pubblico per creare allestimenti che all'epoca potevano essere considerati moderni e innovativi da alcune dichiarazioni rese nel 24 la rivista del secolo XX sappiamo che nel 1911 Romagnoli mise in moto l'organizzazione degli spettacoli Patavini grazie ai finanziamenti dell'avvocato Zanniboni di Padova ingaggiando oltre agli studenti dell'Ateneo anche tutti i collaboratori artistici per gli anni a venire come Enrico Bonetti che produsse appunto i costumi lo scultore Valerio Brocchi che si occupò delle maschere Bruno Pozzo che dipinse i figurini lo scenografo Contarello e così via indicare tutta una serie di figure tecniche che aiuterono negli allestimenti pro bono tutte pro bono il primo anno furono prodotte le nuvole poi le baccanti nel 1912 e infine tra il febbraio e marzo del 1913 il teatro del popolo di Milano ospitò la compagnia studentesca a cui si era aggiunto anche Giosuè Borsi come guest star potremmo dire per un ciclo di rappresentazioni classiche che oltre ai testi citati comprendeva il ciclope e l'Alcesti riviste quotidiane accolsero con entusiasmo l'esperimento drammatico di Romagnoli soffermandosi inoltre a considerare la realizzazione degli elementi di costume gli attori buffi riprendo una recensione di Marescotti gli attori buffi abbiamo veduto indossare un costume che per ogni riguardo ricordava quello del nostro Pulcinella così vestiti gli atenesi e tutti gli antichi videro i loro eroi buffi per le baccanti la cui azione si svolge a Tebe nella reggia del vecchio Catmo venuto di Fenicia il Romagnoli ha scelto un tipo di vesti greco orientaleggiante invece assolutamente greci erano i vestiti dell'Alcesti e quelli del ciclope ci sono apparsi una meraviglia sotto ogni aspetto soprattutto dal confronto con la messa in scena delle nuvole appare diremo chiaro come precedenti studi di Romagnoli sull'arte antica siano stati ripresi per concepire i costumi infatti l'iconografia dei figurini si basa sulle pitture vascolari di scene tratte dalle cosiddette fasse fliaciche che vengono datate circa il quarto terzo secolo avanti Cristo le quali secondo Romagnoli ereditavano le caratteristiche di una forma popolare primitiva di commedia che influenzò anche la più sofisticata forma della commedia attica e in generale secondo Romagnoli anche ogni manifestazione drammatica di genere comico posteriore a questo proposito Romagnoli accosta l'abito degli attori fliacici con alcune maschere della commedia dell'arte e vedete appunto come strepsiade cioè lesina in realtà nella traduzione di Romagnoli assomigli molto appunto alla maschera di Polcinella le raffigurazioni vascolari a tema fliacico verranno riprese anche dall'artista Giulio Coenbellotti per l'allestimento del medesimo dramma Siracusa nel 1927 inoltre nel Carro di Dioniso che è una drammaturgia originale del grecista risalente al 1913 ma più volte messa in scena dal 14 al 36 Romagnoli rielabora creativamente quelle che lui ritiene essere alcune convenzioni del dramma comico greco secondo poi l'esposizione che lui stesso aveva reso appunto nei suoi studi critici ad esempio il protagonista del Carro di Dioniso dal nome parlante di Fliacce è infatti il capo comico di una compagnia girovaga che si richiama agli attori buffi ritenuti essere da Romagnoli i protagonisti di quella farsa delle origini sin dai tempi antichissimi dice Romagnoli nel suo libro nel Regno di Dioniso nei villaggi nelle città di tutto il mondo greco si poteva vedere questo spettacolo un grosso carro tratto da cavallo da muli e carico di attrezzi attraversava le strade e si fermava sulla piazza principale accompagnato dai ballonzoli dalle capriole dalle grida di giubilo dei monelli i buffi buffi non dicevano buffi naturalmente qui Romagnoli riporta anche i nomi che si trovano in Ateneo cioè usavano nomi diversi nelle diverse regioni di Celisti in Laconia Fallopori Sicione dilettanti a Tebe altrove autocab dagli ossofisti in Italia Friaci in conclusione erano Pulcinelli scendevano dal carro costruivano in fretta e furia un palcoscenico minuscolo e relativamente altro chiuso in fondo da una scena rudimentale comunicante sul davanti col terreno mediante una scheletta gli attori si nascondevano e si abbigliavano di dietro e cominciata la farsa alcuni quelli che si supponeva stessero in casa entravano dal fondo altri che si figurava giungessero di lontano facevano un piccolo giro e salivano per la scaletta le foto di scena del caro di Dioniso che vi presento nella versione ai tempi di Agrigento nel 28 e mi pare anche di capire nella versione amalesco del 36 ma poi Angela Romagnoli ci dirà meglio possiamo vedere appunto innanzitutto come la curatezza ci sia una certa curatezza nel riprodurre il costume tipico degli attori sulle raffigurazioni vascolari ma nonché la presenza del palco in legno foggiato a partire dalle medesime fonti gonografiche per quanto riguarda la tragedia e il dramma satiresco invece il fondo Romagnoli ha restituito tutta una serie di foto di scena da cui si possono condurre ulteriori interessanti osservazioni arricchite inoltre dalla presenza stessa dei costumi che abbiamo visto nella diapositiva precedente e costuditi per oltre un secolo dalla famiglia un solo sguardo alle immagini di ciclope baccanti lascia intuire la profonda influenza delle pitture ceramiche nell'elaborazione dei costumi in particolare le raffigurazioni vascolari di fine sesto inizio quinto secolo avanti Cristo da cui Romagnoli potrebbe aver tratto le idee per i figurini furono dagli stessi pubblicate sulle prime edizioni delle due traduzioni e sul volume Il teatro greco del 1918 quindi l'osservazione di Marescotti prima citata sulla peculiarità dei costumi per ogni singola rappresentazione permette di fare ulteriore chiarezza sul metodo di lavoro di Romagnoli come direttore artistico per il quale l'equilibrio dello spettacolo doveva essere raggiunto attraverso la coerenza di ogni elemento scenico per questo il carattere greco orientalizzante dei costumi per Baccanti si fonda in un certo senso sull'ambientazione del dramma non solo considerando l'origine della stirpe di Cadmo dalla Fenicia ma come evidenziato nella prefazione delle Baccanti di Romagnoli pubblicata nel 1912 recupera la consueta immagine di Dioniso quale di orientale proveniente dalla traccia che probabilmente si faceva anche agli studi di Rode questa attenzione quindi al contesto drammaturgico di cui abbiamo molto parlato anche questa mattina rappresenta la componente principua degli allestimenti di Romagnoli replicata con la collaborazione rispettivamente di Bruno Pozzo e di Cambellotti anche per i figurini dei primi due spettacoli siracusani Agamennone e Coefo rappresentano un'ambientazione abbiamo appena visto chiaramente micenea e i costumi stessi richiamano la ricchezza a mio parere anche dei tesori di Priamo e Atreo rinvenuti da Schliemann così come le decorazioni si ispirano al midesimo retroterra culturale nonché come ha sottolineato anche Giovanna Di Martino le figure tardo geometriche raffigurate sui vasi scoperti raccolti da Paolo Orsi nel museo archeologico siracusano e ce l'ha ricordato anche Marco Brunetti poco fa questa prospettiva viene inoltre confermata da Romagnoli stesso nell'articolo del 1924 che è un po' lungo ma vale la pena di leggere quasi per intero Romagnoli qua si fa riferimento a dei critici da manuali di 15 centesimi che stavano che avevano detratto un po' le sue rappresentazioni classiche quindi quando i superiologiati critici da manuali da 15 centesimi videro le tuniche fiorite le sgargianti policromie gli elmi dall'immenso cimiero delle baccanti della gamendone mi ammonirono che i costumi greci erano ben più severi mi ammonirono che i greci indossavano il chitone semplice camiciotto e sopra il chitone lo imazio un mantelletto lungo la clamis semplicissimo mantelletto corto la mia innocenza ne fu ampiamente illuminata però se invece di 15 centesimi avessero speso lire 1,50 per un manualetto o meno letto avrebbero visto che la grecità comincia un po' prima del chitone dello imazio né della clamide comincia da quando fra i popoli del mare che muovevano a debellare la potenza dei faraoni della diciannovesima dinastia volgendo circa il 1300esimo anno prima della salutifera incarnazione nei greci compaiono dei danaunai degli acaiusca che sarebbero a dire danai e acai ossia i famosi eroi delle tragedie greche i quali non indossavano i semplici paludamenti cari alla grecia classica e già questi bravi acai non avevano avuto tempo di formarsi uno stile erano scesi dal nord a invadere la grecia avevano debellati e sottoposti i primitivi pelasgi e avevano coperto di rocche tutte le alture strategiche della regione e in quelle rocche vivevano da signorotti e gli artisti li facevano venire dalle regioni che li producevano da creta dalla fenicia dall'egitto e questi artisti accomodavano agli usi del paese ed anche i desideri dei principi la loro arte tutta impregnata d'elementi orientali stabilito questo punto mi sembra segnata la via Eschilo certo vestiva i suoi attori secondo le fogge del suo tempo ma Eschilo non aveva la più lontana idea dell'ellenismo preclassico allora nascosto sotto il suolo si non ha le menome vestigia e viceversa dalle supplici si vede bene come anche nei particolari cercasse sempre il caratteristico sicché noi saremo più Eschilei se dovendo rappresentare un ambiente preellenico lo costruiremo di elementi preellenici ed anche qui non geli da ricostruzione archeologica troppo a buon mercato figurati ho detto a Cambellotti di essere uno di quegli artisti o cretesi o giziani chiamato da uno di quei signorotti ok certo più splendidi dei meccinati pescicani moderni a dare tono alla sua corte e regolati di conseguenza scegli da tutti gli elementi delle arti orientali orientalizzanti che tu conosci a menaditto ispirati all'artegea finice egiziana babilonese licea etea e componi liberamente la tua non deve essere una riproduzione bensì una creazione il brano restituisce con efficace chiarezza l'intento di Romagnoli nell'ideazione dei costumi teatrali realizzare in un certo senso il sogno dell'antico drammaturgo svestendo tra virgolette i suoi personaggi dagli anacronismi sempre tra virgolette del quinto secolo avanti Cristo per restituirli creativamente al mondo di appartenenza nel caso di Agamemnon e Coefore ad esempio quello miceneo e di ispirazione anche minore orientale per concludere brevemente sebbene Duilio Cambellotti come abbiamo ricordato anche prima avesse in seguito ripudiato l'estetica archeologica che guidò i primi due allestimenti siracusani secondo il progetto secondo il quale il rispetto dell'archeologia non è schiavitù non esitò a riconoscere che la Grecia barbarica sotta sorta dagli scavi di Schliemann si era imposta nell'immaginario europeo di primo novecento incontrando il favore del grande pubblico indirizzando di fatto il suo lavoro come scenografo e nel 1921 anche come figurinista Romagnoli considerando questo fattore e consapevole delle competenze maturate negli anni di formazione universitaria cercò di giustificare questo ricorso all'archeologia a servizio del singolo spettacolo e forse anche dell'educazione stessa del pubblico da un lato infatti la necessità di sviluppare una nuova modalità di rappresentazione del dramma antico in epoca moderna influì notevolmente sugli aspetti drammaturgici musicali come oerografici nonché sugli elementi scenici di costume perché si amalgamassero abbiamo visto anche oggi armoniosamente secondo l'interpretazione scenica complessiva dall'altro la presenza di un pubblico proveniente da svariati ceti sociali che presumibilmente aveva poca o scarsa dimestichezza con l'eredità classica consentiva a Romagnoli di rendere operativo il suo progetto di divulgazione autoptica dell'arte figurativa antica creando costumi che richiamassero efficacemente le raffigurazioni vascolari o le decorazioni di una civiltà greca che nella sua sclericità si stava all'epoca rivelando come tutto da scoprire e forse Ricciardi che parlava appunto di spettacolo museo potrebbe aver diciamo pensato proprio a questo tipo appunto di allestimenti che Romagnoli stava facendo ispirati molto all'arte antica vi ringrazio e concludo qui e grazie allora Brunetti e Troiani per questa anche singolare ricezione dell'arte antica delle arti figurative adattate evidentemente o reinterpretate per il teatro era barocca e l'attività dei musicisti italiani presso la corte di Vienna tra 6 e 700 è presidente del comitato scientifico del centro di musica antica della fondazione Ghislieri di Pavia accanto a questo diciamo a queste sue attività eh di ricerca didattiche e altro devo dire che Angela fa molto anche per la città di Rovereto sul piano culturale per esempio è direttrice artistica o per meglio dire fa parte della direzione artistica del Festival 7900 un festival che si svolge a Rovereto nella stagione tra la primavera e l'estate dipende dagli anni con festival molto seguito dalla cittadinanza e non solo e Angela è anche membro del consiglio direttivo dell'European North Artways nel suo intervento parlerà delle rappresentazioni di Malesco infatti nell'estate del 1936 del 37 Ettore Romagnoli realizzò con la compagnia di Oscar Andriani due stagioni teatrali a Malesco un piccolo paese piemontese che conta circa 1300 abietanti ora e sulla base degli studi esistenti e del materiale custodito nel fondo Romagnoli la relazione presenta il contesto in cui si sviluppò l'idea e i legami di Ettore Romagnoli con Malesco e quindi ancora una volta questa diciamo sempre volontà di divulgazione delle opere d'arte coinvolse anche gli abitanti di questo piccolo paese o perlomeno Ettore Romagnoli vuole il coinvolgimento nelle rappresentazioni teatrali anche della gente del luogo grazie Angela te la parola grazie grazie mille Patrizia in realtà Patrizia dice che io gioco in casa ma da un certo punto di vista mi sento come quelli che per diritto ereditario sono catapultati in situazioni di cui non capiscono assolutamente niente e ci stanno in qualche modo perché come avete sentito io sono una barocchista e musicologa quindi non ho niente a che fare né con il classicismo né con gli studi sull'antichità né anche col modernismo ecco quindi perdonatemi perché sono sicuramente molto meno competente di tutti quelli che sono presenti in sala ma il fatto di occuparmi di Malesco nasce da una serie di cose di cui accennerò anche durante la relazione in larga parte lasciatemelo ricordare per il grandissimo affetto con cui mio padre ci parlava sempre di questo posto e io vorrei anche dedicare questo mio intervento a mio padre Emilio grazie al quale diciamo poi è sempre c'è sempre stata un po' questa curiosità verso questo posto che lui descriveva come bellissimo dal punto di vista della natura ed evidentemente per lui era anche pieno di ricordi di affetti e così ricordiamo anche lui oggi spettacoli di primordine nuovissimi per la zona questa è una citazione tratta da una relazione che il potestà di Malesco e Gidio Cattaneo fa alla fine della prima stagione degli spettacoli di Malesco ecco qua Malesco un paio di fotografie tanto per capire di che cosa si tratta è appunto un paese piccolo oggi conta 1300 abitanti ed è situato in Val Viggezzo detta la valle dei pittori è la valle che da Domodossola poi va giù scorre verso la Svizzera e tra l'altro è percorsa da una bellissima ferrovia che ancora oggi è in funzione che è estremamente panoramica e porta fino all'Ocarno come vedete dal punto di vista panoramico è molto molto suggestiva il mio intervento si basa in parte e devo dire dichiaro un debito abbastanza rilevante a questo stadio dei miei studi su un piccolo libro di Benito Mazzi che è uno scrittore abbastanza noto giornalista anche storico a livello locale della Val Viggezzo che si è occupato di ricostruire un primo affresco di queste stagioni del teatro classico Malesco e lo fa da un lato con una buona documentazione dall'altro con una penna molto felice da scrittore proprio un librino piccolo ma estremamente vivace che ci racconta anche basandosi su testimonianze dei paesani di Malesco quello che possono essere state queste rappresentazioni anche per la popolazione locale diversa documentazione io la traggo da questo libro anche perché come tutti sapete negli ultimi due anni è stato molto complicato fare ricerche d'archivio e a tutt'oggi l'archivio di Novara per esempio ha dei tempi di consultazione e un numero di posti a disposizione molto ristretti per cui diventa veramente complesso pensare di fare delle ricerche a distanza Malesco oggi oggi può sembrare strano forse sembra strano anche allora che un paese così piccolo potesse accogliere un'impresa così ambiziosa e per capire un po' come si è potuta sviluppare questa idea e questa avventura teatrale particolare è necessario fare mente locale su quella che era però Malesco e la Val Vigezzo negli anni 30 dobbiamo cercare di capire qual è il contesto in cui si sviluppa la faccenda in effetti solo a vedere i numeri così paesi piccolissimi in una valle dal nostro punto di vista sperduta poi non è vero che così appunto il fatto stesso che ci fosse la ferrovia indica che era un luogo che aveva delle potenzialità anche turistiche ma soprattutto si crea una situazione per cui proprio negli anni 30 e 40 poi anche questa valle diventa un punto di raccolta di una serie di artisti di intellettuali di persone di una certa di un certo spessore anche con dei ruoli importanti nella vita intellettuale e culturale a livello quantomeno del nord Italia che volentieri passa le vacanze a Malesco in Val Vigezzo diciamo tra Malesco e Santa Maria Maggiore Santa Maria Maggiore è il centro principale un po' della valle se escludiamo Domodossola che è proprio la città di riferimento in particolare l'albergo delle Alpi a Santa Maria Maggiore che è gestito dal signora Gina Sibilia Porrinelli che viene tra l'altro anche citata nelle corrispondenze che ho potuto vedere relative per esempio all'acquisto della villa di Malesco da parte di Ettore Romagnoli e questo albergo delle Alpi è un punto di raccolta di diversi intellettuali inoltre Santa Maria Maggiore e Malesco attirano gli emigrati della valle che erano per esempio in Francia o in Svizzera e che molto volentieri però d'estate tornano nella valle Natia e quindi fanno parte di questo giro importante di intellettuali ne ho notato qualcuno Benito Mazzi in realtà da un elenco abbastanza cospicuo di personaggi negli atti di un convegno dedicato a Francesco Paston che è un poeta di un certo nome insomma all'epoca per esempio l'illustratore Ferdinando Bach che peraltro disegnerà anche qualcuna delle scenografie per gli spettacoli a quanto pare Sam Benelli Giovanni Bertacchi Giulio Bertoni Arturo Farinelli Giovanni Greppi appunto il poeta Pasco Stonchi Ugo Ietti o Nicola Zingarelli anche il pittore Carlo Fornara che è originario della Val Vigezzo un pittore importante e il lo scrittore Luciano Gennari che appunto è di è francese di fatto perché figlio di emigranti ma ritorna a Santa Maria Maggiore ritorna in Val Vigezzo ed è una presenza stabile probabilmente è il tramite per cui Ettore Romagnoli ha cominciato a frequentare la valle comunque è un personaggio che ha un'importanza in questa storia dei legami di Ettore Romagnoli con la Val Vigezzo allora appunto cosa ha Ettore Romagnoli a che fare con la Val Vigezzo abbiamo chiaramente tutte le testimonianze che lui frequentava la Val Vigezzo negli anni trenta abbiamo questa villa che è sicuramente casa sua a Malesco poi la vedremo il problema può capire quando e come ci è arrivato qui nel fondo Romagnoli abbiamo almeno due libri di Luciano Gennari che vi ho citato prima con dedica a Ettore Romagnoli e io sono riuscita ad averne in mano solo uno perché l'altro so che c'è però non è stato recuperabile e la dedica dice a Ettore Romagnoli nel giorno del suo arrivo in Parigi il 23 marzo del 1930 da Luciano Gennari quindi nel 1930 certamente lui aveva già un rapporto con Gennari che è appunto questo viggezzino importante un altro rapporto solido sicuro con la Val Vigezzo è quello con appunto il pittore Fornara il pittore Fornara che è stato maestro di pittura del figlio Lucio quindi è un personaggio con cui è stato mantenuto anche nel tempo un rapporto importante nella diapositiva non so quanto si veda ma questo libro qua che è sullo sfondo dietro le cose di Fornara è un libro di Gennari il romanzo di una valle in cui nel terzo capitolo se non sbaglio c'è proprio una descrizione anche della stagione delle rappresentazioni di Malesco questo viene usato come fonte per la ricostruzione di questo periodo d'aureo del teatro a Malesco naturalmente ci vuole qualche cautela perché bene o male si tratta sempre di un romanzo quindi però è uno dei punti di riferimento per cercare di ricostruire questa stagione altri legami sono quelli derivanti dal fatto semplicemente che la famiglia villeggiava lì qui vedete da un lato una foto dei tre ragazzi romagnoli Tullio Emilio e Lucio il più piccolo e poi un altro rapporto che da quanto riportano alcune fonti e quanto dicono anche ancora in paese era quello che univa sicuramente Tullio alla più grande dei ragazzi con Nelda Cattaneo che era la figlia del Podestà che è la ragazza un po' più grande che vedete nella foto in verticale quindi questi sono rapporti che si sono mantenuti anche un po' nel tempo e di cui peraltro i paesani hanno ancora una memoria molto viva io sono stata a Malesco ho avuto occasione di parlare con qualcuno ed è una storia che le persone un po' più anziane ma neanche vecchissime si ricordano ancora piuttosto bene questo è un fatto interessante la famosa villa di Malesco ecco questo è il legame veramente concretissimo di Romagnoli con con la cittadina la villa è stata certamente acquistata nel 1934 abbiamo una corrispondenza di Maria Aldisio Romagnoli che di fatto tratta lei tutta la questione dell'acquisto si preoccupa che non ci siano ipoteche si preoccupa di parlare col parroco per sapere com'è la situazione eccetera eccetera e alla fine nel 34 la villa viene acquistata questo risulta anche dall'inventario dei beni alla morte di Ettore Romagnoli abbiamo le date precise di questa faccenda qui la vedete come era all'epoca in due prospettive diverse e vi faccio vedere com'è adesso adesso c'è ancora però di proprietà di delle suore salesiane mi pare non mi ricordo più di Novara e di fatto è una colonia estiva insomma ospitano gruppi di ragazzi per fare delle attività è stata molto ampliata rispetto alla condizione originale però è ancora questa parte davanti è sostanzialmente abbastanza simile a com'era soprattutto sono mantenuti anche alcuni degli arredi ha mantenuto per esempio il pianoforte che era presumibilmente quello di Maria Aldisio che tra l'altro gemello di uno strumento che lei certamente aveva si era portata dalla Sicilia Roma e così è visitabile se si vuole quindi come vedete delle tracce estremamente concrete allora la frequentazione di Romagnoli con la Valvigezzo evidentemente è di di lunga data comunque data qualche anno nel momento in cui si decide di provare a mettere su la questione delle rappresentazioni la traccia documentaria di queste rappresentazioni è abbastanza solida per quanto riguarda proprio le stagioni che sono state fatte un po' meno chiaro è come si sviluppa tutto il progetto io credo che molte molti accordi molte idee si hanno venute fuori proprio conversando con il fatto che lui comunque c'era a Malesco d'estate faceva queste villeggiature aveva dei rapporti diretti con le persone mi sono fatto un po' l'idea che alcune cose non le troviamo scritte o forse non le troviamo ancora scritte questo non lo so perché sapete che la consultazione della parte archivistica del fondo è piuttosto avventurosa e anche la corrispondenza da degli esi cioè la ricerca nella corrispondenza è diciamo casuale per il momento io ho trovato un paio di cose ma veramente a caso perché penso che probabilmente tra mio padre e mio nonno se siano messi lì e mi abbiano fatto ritrovare un paio di letterine per darmi una soddisfazione ma va avanti veramente così e quindi credo che verrà fuori qualcosa altro però per il momento è piuttosto incerta la questione ma immagino che per esempio dato che col podestà cattaneo si era sviluppato un certo rapporto di confidenza tante cose siano state semplicemente discusse a voce quindi non so se troveremo mai proprio perfettamente la traccia dei documenti fatto sta però che nel 1936 Oscar Andriani che come voi sapete molto meglio di me è un attore e capo capocomico diciamo che ha una compagnia specializzata proprio nella proposta di rappresentazioni classiche fa una proposta formale su questo c'è un documento che è citato da Mazzi per l'appunto in cui si richiamano precedenti colloqui e propone al podestà una stagione teatrale vi leggo il documento è abbastanza breve in seguito ai precedenti colloqui per attivare il progetto di sua eccellenza Romagnoli di dare durante la stagione estiva alcune manifestazioni artistiche anche a Malesco e per offrire a tutta la valle una possibilità di svago nel periodo di maggiore affluenza di forestieri comunico gli estremi finanziari per l'attuazione del programma artistico opere da eseguire a carattere popolare qui quindi ci richiamiamo i discorsi che abbiamo fatto in questi giorni in pieno a teatro chiuso il cardinale Giovanni De Medici di Parker la cena delle beffe di San Benelli Glauco di Ettore di Ercole Luigi Morselli Compensazioni d'amore un atto di Ettore Romagnoli e Titano di Nicodemi all'aperto coefore di Eschilo carro di Dioniso di Romagnoli e poi continua con le condizioni la compagnia è composta di 14 persone impegnate per 15 giorni viaggio e permanenza di tutti i componenti la compagnia e tutta l'attrezzatura per la messa in scena costumi scene addobbe eccetera forfè il tutto lire 15.000 la spesa è ridotta al minimassimo delle possibilità ed attuabile solo perché gli attori si trovano nel periodo estivo in cui per loro vi è una minor possibilità di lavoro si è tenuto presente che lo scopo dell'iniziativa è dare impulso ad un'attività artistica che potrà ampliarsi e negli anni prossimi offrire anche a Malesco la possibilità di creare un centro turistico di primo piano ecco perché si è limitato il tutto riducendo al minimo anche le spese generali come elementi principali fra altri sono stati designati e assunti impegni in via di massima con Giovanna Scotto e Bella Starace Sainati quindi due attrici assolutamente di primo piano per l'epoca questa è la proposta di Andriani che viene fatta evidentemente su sollecitazione e su progetto di Ettore Romagnoli sempre da Mazzi cito la delibera del potestà in risposta a questa proposta di Andriani con riferimento al desiderio espresso da sua eccellenza Ettore Romagnoli accademico d'Italia residente in Malesco nei mesi estivi circa la possibilità di dare in Malesco nella piena stagione di villeggiatura alcuni spettacoli intesi ancora una volta a diffondere nel mondo l'insegnamento delle forme più alte della civiltà romana quindi siamo proprio nel pieno di questo solco che abbiamo disegnato negli interventi precedenti nell'intento di far conoscere sempre più e valorizzare questa valle Viggezzo servita da una comoda ferrovia elettrica e ricca di risorse naturali dato che il comune di Malesco si trova all'ingresso di questa nostra bella Italia per chi lascia la Svizzera dopo aver fatto quella magnifica strada turistica del Monte Ceneri lasciando dietro di sé Lugano e Locarno allo scopo anche di sviluppare e favorire tutti i problemi del turismo anche internazionale nel clima propizio dell'Italia fascista vista l'offerta del signor Oscar Arndiani ritenuto che l'eventuale perdita sarebbe largamente compensata dalla valorizzazione turistica e quindi dal maggior afflusso di forestieri delibera di accogliere l'offerta del signor Arndiani e poi continua con alcune precisazioni proprio sulle condizioni quindi come vedete la proposta incontra il favore per motivi che vanno dall'idea di incrementare il turismo a quella di incrementare anche la cultura nella direzione pedagogica che era anche naturalmente nel solco dei desideri del clima culturale dell'epoca per fare queste operazioni abbiamo visto che Andriani proponeva spettacoli al chiuso e spettacoli all'aperto allora al chiuso si decise di trasformare quelle che erano le scuole di Malesco che comunque erano insufficienti al fabbisogno del paese che è la fotografia che vedete più antica in un teatro in un teatro chiuso la foto con le macchine davanti purtroppo l'ho mai trovato senza le macchine davanti è lo stato attuale del cinema teatro di Malesco che ancora serve a questa funzione così per lo spettacolo questa operazione solleva un po' di malcontento perché destinare le scuole orgoglio fiore all'occhiello di Malesco attività così poco moralmente attività moralmente un po' eccepibili pare che abbia scontentato le signore di Malesco che lo vedevano un po' come il fumo negli occhi questa presenza dei teatranti un po' eccessiva in paese il teatro all'aperto fu realizzato appositamente di questo purtroppo non c'è proprio più traccia quindi fu realizzato un teatro ad anfiteatro con lo sfondo naturale molto bello avete visto che paesaggisticamente la vallata è veramente abbastanza impressionante e quindi questa era la cornice in cui si svolgevano poi gli spettacoli all'aperto qui nel fondo Romagnoli conserviamo alcune locandine manifesti eccetera che ci permettono di precisare il repertorio peraltro già elencato da Benito Mazzi anche se in forma non troppo sistematica devo dire un po' mescolando un po' le stagioni quindi questo è un manifesto di grande formato e l'ho fotografato in due pezzi per farlo stare sulla fotografia che ci dà conto di tutto il repertorio della prima stagione quella del 1936 e vedete che viene posta l'operazione sotto l'egita del del dopolavoro nazionale l'opera nazionale dopolavoro dopolavoro comunale di Malesco naturalmente sono messi in bella evidenza i tre attori principali Bella Starace Sainati Giovanna Scotto Oscar Ambiani che è sempre stata una tecnica per attirare il pubblico quella di mettere l'interprete di primo piano in evidenza il repertorio è un pochino diverso leggermente diverso da quello che era stato annunciato nel progetto di Andriani ma comunque siamo lì Glauco il titano il cardinale Giovanni dei Medici il beffardo le compensazioni d'amore di Romagnoli il carro di Dioniso e le coefore un po' più leggibile forse ecco questo è l'elenco della compagnia in realtà poi nelle singole locandine troviamo anche altri attori indicati vi sottolineo solo i nomi più importanti per esempio Guido De Monticelli o Salvo Randone con l'elenco dei signori sono personaggi abbastanza di primo piano queste sono locandine più piccole che abbiamo sempre qui nel fondo Romagnoli che ci permettono di vedere meglio la scansione cronologica degli spettacoli che pure è importante gli spettacoli al chiuso si facevano normalmente di sera quelli all'aperto invece iniziavano alle quattro e mezza di pomeriggio le rappresentazioni classiche venivano offerte all'aperto queste sono locandine relative a singole rappresentazioni in cui come vedete abbiamo la possibilità di studiare la compagnia al completo con l'assegnazione dei ruoli e ho messo qui anche una locandina dell'ultima recita della stagione la recita del Dio a beneficio dei poveri del comune dove c'è come era uso fare un po' turri di varie proposte che vanno dalla prosa alla musica alla estratti per esempio anche dei promessi sposi di Ettore Romagnoli e quindi varie attrazioni se volete il tutto ovviamente con le star della compagnia per esempio appunto Salvo Randone lo stesso Andriani oppure la Maria Simonetti che era la coreografa e danzatrice della compagnia ma anche con il coinvolgimento per esempio di musicisti locali in modo da realizzare quella compresenza tra popolo proprio cittadini di Malesco e professionisti che doveva garantire da un lato l'elevazione del del popolo che veniva fatto partecipare a queste rappresentazioni di carattere alto e dall'altro però anche un maggiore coinvolgimento di tutto il paese nell'operazione il repertorio del 1937 sicuramente io da qualche parte avrò scritto 1636 1637 perdonatemi mi capita qui ho messo una locandina con fronte retro che è interessante spero che si riescano a vedere abbastanza bene perché proviamo il repertorio di Malesco con anche le date e tutto quello che ci può servire anche qui abbiamo mescolati sia lavori diciamo in prosa di Romagnoli drammaturgo poi abbiamo il Don Quixote che è un'opera in cui invece la musica per esempio ha una grande importanza sempre di Romagnoli abbiamo Edipo a Colono come rappresentazione classica abbiamo sempre di Romagnoli le notte di Suleica che fa parte dei drammi arabi e poi però abbiamo anche Sly di Forzano che era un'opera teatrale da cui poi è stato tratto anche un libretto con musica di Wolf Ferrari per esempio quindi abbiamo anche qui mescolate una serie di cose è interessante però il confronto con quello che succedeva in estate negli altri paesi della Val Vigezzo che troviamo nel retro di questa locandina cioè mentre a Malesco facevano queste cose bene o male comunque teatro di un certo livello negli altri posti facevano una mostra pittorica del paesaggio a Santa Maria Maggiore mostre di arte sacra a Re dove c'è un santuario molto importante un congresso eucaristico maleano invece per esempio a Druogno un raduno folcloristico concerti bandistici poi giochi popolari concerti e feste da ballo ecco quindi Malesco si contraddistingue evidentemente per una programmazione molto alta rispetto a quello che succedeva però la valle nel suo complesso si dimostra piuttosto vivace almeno in estate quando è piena di questi ospiti importanti e da notare anche che nelle locandine anche nel manifesto era sottolineato il fatto che c'è la ferrovia attiva dopo gli spettacoli adesso io proporrei per esempio una petizione alla provincia di Trento perché invece oggi noi non riusciamo se andiamo a vedere un concerto a Trento a tornare in treno a Rovereto sì che è una distanza da bicicletta ecco invece nel 1936 a Malesco si poteva tornare in treno dopo lo spettacolo tranquillamente a Domodossola direi che era adesso non per dire che allora i treni funzionavano però è un dato che effettivamente è abbastanza impressionante d'accordo che non c'erano le macchine private come oggi ma insomma la compagnia ha alcuni nomi in comune con quella che abbiamo visto prima Giovanna Scotto per esempio naturalmente Andriani c'è sempre Salvo Randone c'è sempre Maria Simonetti come coreografa ma c'è qualche invece qualche nome anche diverso è tutto per dire che è tutto ricostruibile adesso qui non voglio entrare così nel dettaglio abbiamo Locandine che ci permettono di illuminare i singoli spettacoli nei dettagli per esempio per il Don Quixote vi vorrei sottolineare la presenza di un tenore importante che è Aldo Oneto che ha cantato a Malesco Oneto era un tenore puciniano di una certa rilevanza se siete curiosi tra l'altro in internet ci sono anche delle registrazioni storiche se volete sentire la voce di Oneto è possibile un altro dato da sottolineare è che per esempio nella prima stagione viene coinvolta la banda di Malesco e il maestro Gnocchi che era il direttore della banda anche un musicista su cui si trova pochissimo ma che sembra abbastanza attivo anche nelle società dei compositori dell'epoca eccetera invece in seguito si fa riferimento più alla banda di Domodossola e si coinvolgono anche come orchestratori degli altri personaggi cosa che non verrà vista bene dai Maleschesi perché è stata poi esautorata la banda locale e ovviamente questo ha fatto un po' cadere il patto che doveva esserci invece tra popolazione e impresa degli spettacoli c'è poi questa locandina dell'Edipo a Colono anche che appunto ci dà particolari interessanti per quanto riguarda l'iconografia le recensioni eccetera qualche cosa si trova non è facilissimo però perché col profluvio di iniziative romagnoliane sul teatro all'aperto effettivamente ogni tanto non è proprio facile attribuire le fotografie quando non c'è un'indicazione precisa qui però io ho trovato per esempio un fascicolo di questa rassegna eclettica illustrata italiana che è Varietas su cui troviamo con la caldigrafia di Maria Aldisio indicato dove è presente l'articolo di interesse soprattutto la pubblicazione della musica della mattinata di Pedrillo dal Don Quixote c'è una recensione di Edoardo Anton con diverse fotografie relative all'edipo a Colono e anche al Don Quixote queste sono fotografie interessanti perché poi questo scenario naturale ci permette eventualmente anche di attribuire delle altre fotografie agli spettacoli di Malesco ecco e questo è il Don Quixote invece l'entrata di Mago Merlino e la danza finale del Don Quixote sto tanto per avere questa è la pubblicazione che è completa nella rivista dell'autografo in riduzione per canto e pianoforte della canzone di Pedrillo appunto un po' velocemente restando sulla musica il fondo Romagnoli conserva come sapete molte partiture musicali ora qual è la difficoltà? la difficoltà è che queste partiture sono non tutte ordinate in più abbiamo moltissimi faldoni e cartelline che si riferiscono alle stesse opere solo che sono opere che sono state eseguite molte volte in contesti diversi allora cercare di attribuire a delle rappresentazioni specifiche i singoli materiali è uno dei lavori che dobbiamo fare io credo di avere individuato per Malesco proprio le musiche di scena e il materiale d'esecuzione per le specifiche rappresentazioni di Malesco in base a considerazioni di tipo diciamo un po' genericamente filologico per esempio questa cartellina di Don Quixote che è in mezzo a quintali di altra musica del Don Quixote presenta una selezione di pezzi quindi non è tutto il Don Quixote è una selezione di pezzi e tra gli altri materiali c'è una partitura orchestrale con il nome del l'arrangiatore che compare proprio sulle locandine di Malesco in più la carta è una carta di Domodossola quindi evidentemente tutto torna e non c'è motivo di pensare che non sia il materiale del Don Quixote lo stesso è per questa e oltretutto la scrittura non è quella di Ettore Romagnoli sono evidentemente parti copiate nello stesso gruppo di materiali c'è una riduzione per pianoforte sempre con una scrittura che non è quella di Ettore Romagnoli una partitura ordinata con delle annotazioni di esecuzione quindi questo anche dovrebbe essere la partitura di conduzione al pianoforte del Don Quixote di Malesco e un'altra partitura che secondo me è di Malesco con una certa certezza è quella delle coefore che è contenuta in una cartellina al cui interno c'è la città di Domodossola è un riuso di una cartellina di Domodossola e questo spartito delle coefore con l'indicazione musica di sua eccellenza Ettore Romagnoli però non sembra la calligrafia di Romagnoli questo era l'esempio di cui volevo parlare stamattina devo andare un po' velocemente però allora questo è il canto del coro del primo episodio delle coefore questo è versificato in quinari sdruccioli che è il metro tipico dell'amento dell'opera dall'opera barocca in poi e chiaramente se io ho un testo in quinari sdruccioli che si rifà alla tradizione del lamento non posso fare altro per esempio che intonarlo in tre ottavi comunque ci vuole un ternario e ci vuole per forza una certa ritmica e ci vuole per forza un certo andamento adesso poi non l'ho studiato bene però era per dire che questi topoi sono molto attivi anche nella stesura della musica ed è ovvio che quindi poi ci ritroviamo in situazioni che a volte sembrano già sentite d'altra parte se pensiamo all'opera del set del settecento questo schema del quinario sdruccio e del lamento è onnipresente quindi però mi ha veramente colpito la somiglianza considerando che Ettore Romagnoli ha fatto anche delle trasmissioni radiofoniche sul melodramma eccetera evidentemente aveva una conoscenza ecco quindi anche queste coefore sono maleschesi come pure un edipo a colono anche questo in mezzo a grandi quantità di musiche riferibili edipo a colono qui abbiamo anche una datazione domodossola 1937 abbiamo una parte per arpa o per pianoforte questo è chiaramente materiale di esecuzione anche questo sono parti staccate qui ho messo una parte staccata per flauto per esempio ma ci sono anche molte parti staccate per banda in un formato della musica piccolo che è quello tipico che si mette sull'eggio sopra lo strumento della banda e quindi non è la riduzione per l'orchestra di fiati nel senso l'estratto dell'orchestra sinfonica con i fiati e non con gli archi ma è proprio la banda evidentemente quindi questo materiale di esecuzione che è in quantità cospicua secondo me è tutto riferibile veramente e precisamente alle rappresentazioni di malesco che è un dato piuttosto interessante poi avevo messo insieme qualche altro documento ma taglio un pochino qui una lettera di Guido Letta che era il prefetto di Novara in cui si dà conto del successo di queste cose e una lettera breve che mi sembra un documento interessante che ho trovato del dottor Luciano Maioli che era stato allievo di Ettore Romagnoli al liceo di Lucca e gli scrive dopo essere stato evidentemente a malesco dicendo illustre maestro consumo nostro rincrescimento c'è stato impossibile intervenire alla rappresentazione diurna di domenica 16 come speravamo in modo speciale cioè disperciuto a mia moglie che disegnava vivamente redigere in proposito un articolo in uno dei quotidiani nei quali collaborava ad ogni modo essa non vuole rinunciare a questa soddisfazione ed in base ai resoconti che ha letto e alla lettura delle coefore e della sua versione delle compensazioni d'amore spera poterlo scrivere ugualmente non abbiamo trovato qui le due opere né in biblioteca né dai librai ci interessiamo a cercarle altrove poi continua dicendo come la moglie pensa di pubblicare comunque questa recensione degli spettacoli siccome sui quotidiani ovviamente non essendo più attualità non poteva trovare spazio pensa di rivolgersi al giornale dell'arte devo dire che non ho potuto continuare la ricerca per vedere se poi era uscita veramente questa recensione sul giornale dell'arte e conclude dicendo non può credere quante intima gioia abbia provato nel rivederla dopo tanti anni il tempo del liceo di Rucca mi è sembrato vicino ed è stato come un tuffo nel passato ringrazio lei della cordiale accoglienza eccetera quindi evidentemente si erano mossi da Biella per andare a vedere le rappresentazioni a Malesco e questo può essere interessante questa stagione del 36 è stata indubbiamente un successo ed è stata confermata poi anche appunto la possibilità di realizzarla nel 37 nel 37 però le spese crescono enormemente i cittadini di Malesco sono arrabbiati per il discorso della banda in più pare Mazzi devo dire che descrive con molta verbo una serie di episodi del tipo che un giovane Maleschese sedotto dalle ballerine straniere che si perde dietro e insegue una di queste signore cui si era innamorato grande scandalo perché le signore prendevano il sole sul torrente o sulla terrazza dell'albergo Belvedere quindi le parrocchiane Maleschesi erano piuttosto inferocite per questa situazione sta di fatto che alla fine prevale l'idea della festa da ballo della Sagra Paisana come cosa di maggiore soddisfazione del popolo soprattutto le spese sono assolutamente insostenibili e potestà a suo malgrado deve rinunciare a queste rappresentazioni il che provoca anche delle frizioni con Ettore Romagnoli cosa di cui riferisce la figlia di Cattaneo e che evidentemente sono situazioni che dispiacciono entrambi ma in qualche modo piuttosto inevitabili abbiamo visto che Andriani aveva chiesto 15.000 lire per la prima stagione nella seconda sono aumentate almeno a 25.000 le spese quindi c'è stato veramente un impegno eccessivo per il paese in più deve esserci stata qualche frizione interna e qui ci sono due lettere che sono documenti nuovi che ho rinvenuto piuttosto casualmente una di Salvo Randone che scrive il 9 settembre eccellenza fu molto dolente di non averla potuta salutare ancora una volta prima di lasciare Malesco la prego di scusarmi vengo con questa mia ad esprimerle la mia piena soddisfazione per il magnifico esito degli spettacoli all'aperto dovuto soprattutto all'eccellenza vostra mentre non le nascondo che molto mi amareggiò la conclusione finale dell'ultima sera a teatro chiuso e non sappiamo a che cosa si riferisca la ringrazio infinitamente eccetera poi chiede di poterlo andare a trovare quindi si fa riferimento a qualche cosa di sgradevole che è successo e un'altra lettera di Maria Simonetti va anche nella stessa direzione il 17 di settembre scrive eccellenza prego scusare se ancora mi permetto di sturbarla mi è stato riferito che le hanno fatto credere che io sia venuta via da Malesco senza avvisare nessuno e che lei si sia giustamente indignata per il mio modo di agire siccome non è vero ci tengo a chiarire l'equivoco prima di tutto perché non voglio lei serve un cattivo ricordo di me e poi perché non è mia abitudine agire così scorrettamente io sarei rimasta certamente per l'ultimo spettacolo ma Andriani mi disse che il mio contratto era terminato e la mia presenza non era più necessaria le bambine potevano fare a meno di me volevo venirla a osseguare ma Oscar disse che ci avrebbe pensato lui so con certezza che se io fossi venuta da lei mi avrebbe imposta per lo spettacolo e lui voleva risparmiare la mia paga mi dispiace molto dirle tutto questo ma mi hanno accusata ingiustamente ed è logico io mi difenda non voglio assolutamente che nessuno abbia da lagnarsi di me sono orgogliosa di aver lavorato per i suoi spettacoli sono pronta a chiarire questo increscioso equivoco in faccia a tutti quelli che per scolparsi hanno incolpato me alla mattina avevo una prova con le piccole per lo spettacolo della signora Ada ma un telegramma che annunciava la venuta di mio fratello dall'Africa mi ha fatto decidere a partire subito so che mi hanno messo in cattiva luce spero lei sarà tanto buono da credere a quanto ho scritto qui e vorrà scusare la libertà che mi sono presa o segui quindi è successo sicuramente qualcosa ancora non ho capito che cosa spero di capirlo prima o poi ma questi sono documenti inediti che sono interessanti nel contesto generale di questa avventura chiudo con un ricordo molto piacevole nel 2019 la comunità di Malesco ha organizzato una serie di iniziative sotto il titolo Un colpo di teatro Ettore Romagnoli a Malesco negli anni 30 in cui effettivamente ha cominciato l'intera comunità in qualche modo a recuperare questa storia che era stata nascosta un po' nel tempo fino al punto che mentre subito dopo le rappresentazioni il paese ha dedicato una via a Ettore Romagnoli abbiamo anche nei documenti del fondo Romagnoli il carteggio relativo a questa dedica della via a un certo punto invece è stata cambiata l'intitolazione della via era sparita anche la via Ettore Romagnoli ecco recentemente i Maleschesi hanno deciso di riprendere in mano questa storia e appunto hanno dedicato sia un'iniziativa di ricerca hanno ripubblicato il libro di Mazzi diverse persone si sono messe in archivio hanno fatto ulteriori approfondimenti e una mostra molto devo dire molto ben fatta a cura dell'ecomuseo di Malesco qui vedete Benito Mazzi che presenta appunto la riedizione del libro sulle stagioni di Malesco hanno in programma anche un l'allestimento di una commedia sul periodo e anche sulla famiglia Romagnoli e in questa mostra c'erano sia dei pannelli esplicativi fatti molto bene da parte appunto dell'ecomuseo sia delle cose interessanti questi sono strumenti che appartenevano proprio alla banda il leggio della banda di Malesco eccetera adesso giusto un paio di scatti per avere un'idea e la a me ha fatto abbastanza impressione vedere come proprio a distanza di tanto tempo è come se questo entusiasmo di Ettore Romagnoli nel proporre una stagione particolare per il paese fosse stato ripreso fosse rinato e abbia dato inizio di nuovo a qualcosa con lo stesso entusiasmo e con la stessa carica adesso non so come si potrà sviluppare questa storia perché purtroppo la pandemia è intervenuta proprio nel momento in cui c'era una grande forza propositiva è un po' bloccato tutto però lasciatemi ringraziare ricordare molto affettuosamente gli amici di Malesco Anna Maria Vossa Paola Brunelli Giacomo Jim Bonzani e Laura Minacci che sono stati protagonisti di questa operazione di riscoperta che ci hanno fatto veramente un'accoglienza eccezionale quando siamo stati a Malesco e che hanno continuato comunque in questo tempo a sostenere anche il mio lavoro sono loro che mi hanno fornito quegli scatti per esempio della mostra eccetera eccetera che sono sempre anche disponibili per il discorso della documentazione e che sembra che proprio abbiano voglia di riprendere in mano questa storia della loro comunità e in qualche modo mantenerne viva la memoria ecco quindi grazie agli amici di Malesco e grazie a voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi grazie Angela e adesso se ci sono delle domande da rivolgere a Brunetti Troiani e Angela Romagnoli c'è una domanda per Sara Troiani da parte di Patrizia Veroli aspettate che do la parola a Patrizia Veroli ecco prego Patrizia Veroli a facoltà di parlare sì grazie e vorrei sapere da Sara per gentilezza dato o forse anche dalla professoressa Romagnoli non so se dato il grande interesse di Romagnoli per l'iconografia antica nella sua biblioteca è stato rinvenuto questo famoso libro di Emmanuel o di Maurice Emmanuel del 1895 eventualmente un altro libro che ha avuto molta importanza alla sua epoca la danse grecque antique di Louis Féchamp del 1930 grazie grazie Patrizia purtroppo non ho appunto la possibilità di consultare con grande precisione il catalogo in fieri diciamolo per cui probabilmente con una prossima ricognizione potremmo sapere se questi libri sono effettivamente presenti mi permetto soltanto magari di aggiungere che l'interesse di Romagnoli per la danza penso sia più lui lo riservi agli esperti del settore quindi si affida molto chiaramente a altre danzatrici che appunto ne realizzano le coreografie con gli studi che ha citato che lei stessa ha citato questa mattina comunque con tutti questi stimoli e per gli spettacoli universitari anche nonostante le danze siano comunque presenti ma non si sa in quale misura non si sa in che modo furono effettivamente realizzate però nelle locandine ci sono riferimenti sempre a comunque figure artistiche che hanno aiutato nella coordinazione appunto di elementi di possibili elementi di danza o comunque movimenti coreografici da parte dei cori sarebbe effettivamente interessante una volta che tutto il fondo sarà catalogato capire se effettivamente ci sono questi volumi anche presenti io al momento non li ho trovati adesso lascio la parola ad Angela che magari non sa meglio così a memoria non mi ricordo ma possiamo tentare di fare un controllo sulle liste che abbiamo senza garanzia ma proviamo a vedere in base al materiale che abbiamo se troviamo qualcosa e un'ultima piccola domanda posso? sì sì prego una domanda che corona un po' in qualche modo la mia curiosità cioè data la grande attività anche su giornali su periodici quotidiani di romagnoli per caso si è scoperto che che si è accorto che gli è interessato o non gli è interessato l'esperienza di Isadora Duncan in Italia tournée 1912 Roma ne ha scritto se ne è accorto sono state tre 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 serate anche con una effigenia in aulide che era una cosa famosissima sua anche questo a me non risulta soprattutto in quegli anni in cui la bibliografia più o meno siamo riusciti ad esplorarla quasi tutta soprattutto anche quello che ha scritto sui giornali o nelle memorie sappiamo che i contatti con Isadora Duncan dovevano essere presi per il ciclo per il terzo ciclo di rappresentazioni classiche a Siracusa ma non direttamente da romagnoli quanto piuttosto dal da uno dei capocomici che erano stati diciamo selezionati per la compagnia degli anni del 22 tuttavia questa diciamo collaborazione con la Duncan poi non si è realizzata infatti furono chiamate le sorelle Brown questo sappiamo ma non che Romagnoli fosse venuto effettivamente a contatto conoscenza appunto di queste appunto rappresentazioni di cui lei parla comunque molto interessante con la Duncan è andata male la cosa sicuramente perché dal 21 è in Russia quindi chissà forse non ha avuto neanche notizia il capocomico che l'aveva proposta è stato chiamato e dopo non ci si è più interessati a lei ovviamente poi lei è in Russia ma lei era disposta da quanto diceva questo capocomico che è Ettore che era della compagna di Ettore Berti tra l'altro appunto che lei avrebbe chiesto il permesso di uscire dalla Russia per venire in Italia per Siracusa quindi comunque l'interesse da parte sua c'era poi se gliel'avrebbero dato nel suo grande idealismo compagnia quindi hanno chiamato altro a quanto pare questo il discorso che era nato e si legge tutto nel carteggio dell'Inda soprattutto grazie molte grazie non ci sono altre domande allora a questo punto io passerei subito alla presentazione del volume ritmo parole musica Ettore Romagnoli traduttore dei poeti che come avete appreso leggendo il pieghevole appunto abbiamo pensato di mettere proprio alla fine diciamo in conclusione del convegno io inviterei qui al tavolo alcuni degli autori del del volume che sono presenti in sala sicuramente Sara Troiani Giorgio Piras e Fabrizio Rasera prima però di lasciare loro la parola vorrei dire io qualcosa a proposito di questo volume che raccoglie gli atti del convegno dell'aprile del 2019 perché questo convegno perché all'accademia l'accademia aveva pensato appunto di dedicare un convegno a Ettore Romagnoli allora bisogna fare un passo indietro quando io studiavo al liceo circolavano le traduzioni di Romagnoli io mi ricordo che il primo il primo testo che acquistai al liceo non parliamo di manuali scolastici ma i testi classici fu proprio la raccolta degli idilli di Teocrito tradotti da Ettore Romagnoli però diciamo anche che in seguito insomma è calato un po' il silenzio su questo illustre personaggio e certo la guerra dei filologi o tra filologi come tutte le guerre ha i suoi vinti e i suoi vincitori e Romagnoli non è stato il vincitore però quando diciamo nel 2016 la famiglia Romagnoli ha generosamente donato all'accademia un fondo archivistico e librario abbiamo pensato che era tempo di avviare un'indagine più approfondita su questo grecista che ha mirato da non soltanto dai suoi diciamo colleghi a lui contemporanei ma anche da personaggi diciamo più recenti comunque da studiosi della classicità più recenti penso per esempio all'introduzione adesso non ricordo se l'introduzione all'Odissea o all'Iliade tradotti da Romagnoli una delle due di Ettore Paratore un genio un gigante della letteratura latina e è Preparatore che non era certamente incline a complimenti però ha delle parole di grandissima stima nei confronti del letterato Romagnoli allora abbiamo pensato appunto a un convegno che però delimitasse un po' il campo delle attività numerose di Romagnoli ha la sua diciamo operazione di traduzione dei testi sia dei testi dei poeti greci e latini sia dei testi degli autori di teatro e così è nata questa giornata di studi che ha visto appunto i contributi preziosi degli studiosi che ho citato prima che sono qui in sala Troiani Piras la Paola Maria Filippi che mi sembra ci stia ascoltando perché è collegata con noi che ha dedicato un saggio sulle traduzioni dal tedesco perché Romagnoli tradusse anche autori tra cui lo stesso Goethe confrontandole con le traduzioni del suo allievo Vincenzo Errante che fu uno dei grandi studiosi della letteratura tedesca del primo novecento accanto però a questi saggi sulle traduzioni il volume contiene anche comprende anche due articoli uno dello storico Gian Maria Varanini che pubblica per la prima volta l'edizione di 25 lettere scritte da Fraccaroli a Romagnoli queste 25 lette vanno poi ad aggiungersi alle 107 che Varanini aveva già consultato e pubblicato su un volume che era apparso sul giuseppe Fraccaroli a cura di proprio di Cavarsere e di Varanini queste 25 lettere che sono evidentemente commentate dallo storico Varanini ci immettono nel cuore della battaglia tra filologi e antifilologi battaglia che forse trova i primi diciamo albori proprio nella prolusione che che Romagnoli espresse al corso di letteratura greca dell'università di Padova e che poi fu ripetuta la stessa a Firenze quando nel 1909 esattamente il 23 maggio del 1909 fu invitato dalla società di studi classici e l'intervento riguardava la poesia pindarica e l'avversario era Vilamovic e questa diciamo questa questa questo discorso di Romagnoli ebbe un eco che andò ben oltre gli ambienti accademici universitari ma tanto è vero che poi la Girolamovitelli dalle pagine del Marzocco quindi dalle pagine di una rivista di un giornale rispose per le rime a Romagnoli e poi adesso io non mi dilungo insomma a parlare della degli esiti che poi ebbe questa questa battaglia che vide poi contrapposti Fra Caroli e Romagnoli da una parte Vitelli dall'altra seguito poi da Pasquali ma sappiamo bene insomma che fu anche poi questa battaglia ebbe come dire spazio anche su i testi anche più noti di Romagnoli quelli forse più divulgativi no la Minerva Lussimione Lussimione in Italia eccetera ecco quindi è preziosa insomma direi anche questa questa testimonianza queste lettere tra Fra Caroli e Romagnoli lettere scritte da Fra Caroli a Romagnoli quando ancora Romagnoli era all'inizio insomma della carriera universitaria quindi le prime lettere sono lettere sì di riconoscimento per le sue prime traduzioni però ancora lettere un po' cerimoniose e poi diventano invece lettere che rivelano un'affinità elettiva tra i due molto molto forte l'altro saggio che diciamo è un po' eccentrico rispetto alla centralità della delle traduzioni è quello di Fabrizio Rasera su diciamo una ricognizione che Rasera fa della una prima ricognizione proprio del fondo archivistico e librario e da questo ma poi ci parlerà meglio lui stesso da questa da questa lettura insomma del patrimonio librario emerge anche tutta una rete di relazione importantissima che Romagnoli ebbe con i maggiori rappresentanti della letteratura contemporanea e delle avanguardie letterarie in Italia e anche qui vediamo che questa rete di relazione era diciamo connotata anche da parole affettuose non soltanto parole di maniera diciamo come le dediche che si possono fare sul frontespizio di un libro che viene donato ma erano veramente parole che attestavano una una grande anche forma proprio di non soltanto di riconoscimento di stima ma di vero e proprio affetto ecco io mi mi fermerei qui e darei la parola se gentilmente vogliono venire al tavolo a Piras Troiani e Rasera che punta che ci possono raccontare qualcosa anche approfondendo un pochino queste tematiche e forse se se mi permettono a dare la parola a Piras e anche perché so che ha un'importante conferenza al museo storico Piras e che lavora e collabora sul museo della guerra so che c'è un'importante conferenza e quindi magari anche perché lui ci può parlare dello stato attuale del fondo librario e archivistico che è stato donato dai familiari grazie grazie in realtà sono partecipe di una manifestazione del museo della guerra ma passivamente da testimone quindi mi trattengo qui finché è possibile ma mi dispiaceva disertare del tutto anche quell'appuntamento che ha una sua rilevanza simbolica perché il museo della guerra di roveretto sta celebraendo con una serie di manifestazioni i suoi fruttuosi cento anni di vita essendo nato immediatamente dopo la grande guerra ed avendo nel frattempo accumulato una storia ricca di svolte di problemi ma anche di conquiste di successi ed essendo arrivato forse in questo centenario alla sua piena maturità perché i tempi delle istituzioni non sono necessariamente analoghi a quelli delle persone per quanto riguarda questa mia acrobatica ricognizione nel fondo Romagnoli vi devo solo dire che è avvenuta nella situazione un po' paradossale di poter avvicinare i libri grazie alla straordinaria gentilezza di qualche unità del personale della biblioteca perché quello lo devo riconoscere è quasi commovente in qualche momento la disponibilità delle persone di sala anche quelle che sono lì diciamo nelle posizioni più precarie però la catalogazione sta avvenendo ahimè con tempi piuttosto lenti spezzati da qualche problematica complessiva che la catalogazione libraria sta avendo in un posto dove era un tempo fiorente dove eravamo sicuri che le cose sarebbero arrivate in tempi abbastanza brevi nella ricca da questo punto di vista e anche sensibile provincia autonoma di trenta ma qualcosa si è spezzato non stiamo adesso a farne le interpretazioni ci sono dei banali processi anche generazionali o corporativi è difficile mettere al lavoro dei catalogatori per le tipologie di organizzazione di questo lavoro ma poi quando parliamo di libri quando parliamo di carte bisogna sapere che questo è decisivo perché se noi le possiamo consultare in un certo modo cambia tutto dalla situazione invece ripeto piuttosto avventurosa in cui è avvenuto il mio lavoro che come è stato detto anche da altri ha dovuto riposare per fortuna diciamo sul ben fatto lavoro della signora Loiacono Romagnoli la mamma insomma di Angela che è anche una delle artefici di questa donazione che ha fatto un lavoro come va fatto da persona che lo sapeva fare cioè facendo elenchi che sono risultati alla fine molto precisi pur essendo il frutto di un lavoro come dire di governo domestico della situazione fatto da una persona peraltro che sa il fatto suo e quindi giocando su internet accorpando in maniera anche lì piuttosto frettolosa per materie ne ho ricavato una serie di elementi dei quali richiamo soltanto questi rapidamente il fondo librario perché io mi sono occupato solo di quello non era il caso che io mi emergessi nel tentativo di capire un fondo archivistico che non aveva ancora compiuta forma e rispetto al quale avevo anche competenze molto limitate ma limitate le ho anche rispetto ai libri ma per i libri era più facile fare dei ragionamenti dei conti di carattere sintetico e generale ecco il fondo mi è sembrato complessivamente non ancora compiuto e poi Angela ce l'ha confermato perché c'è stata una seconda donazione che ha compreso soprattutto i libri che avevano come oggetto la musica qualcosa abbiamo capito che è rimasto in mano di qualche erede qualcosa questo toglie un po' di valore a quelle quantificazioni che comunque salivano soltanto per capirsi in fondo non è fatto se non in parte di libri comperati e questo ci permetterebbe forse anche una riflessione un po' complessa su cosa vuol dire andare dentro le biblioteche di intellettuali come Romagnoli che hanno anche uno spiccato ruolo pubblico sono doni spesso anche doni sfacciati insomma io ho letto la orribile dedica di un roveretano quindi lo posso dire come dire meno colpevolmente che se lo dicessi di altri il quale nella dedica stessa chiede la recensione che mi pare una cosa che richiedebbe una vendetta sanguinosa perché se il prezzo di avere un libro che non hai chiesto è quello di dover esercitare le tue capacità intellettuali per dovere a beneficio di quel libro uno preferisce non averne più in dono naturalmente questo è lo caso estremo ma in molti altri casi c'è un elemento che riconosce evidentemente il ruolo di Romagnoli come personaggio pubblico come autorità come sua eccellenza appunto no? E R e quindi si tratta di libri pervenuti in parte nella fase della sua vita in cui era oggetto di queste attenzioni non è che per questo quella parte del fondo di guerra non sia interessante anzi è molto interessante ma rispecchia un ambito culturale e di sensibilità più largo che non le scelte in qualche caso si avverte anche il corteggiamento da parte di qualcuno degli autori nei confronti di Romagnoli dieci libri che ci sono dentro di Sibilla Alleramo alcuni di quali intonsi non mi pare che ci indichino una attenzione particolare per l'autrice o per il tipo di letteratura dell'autrice che hanno mille ragioni di interesse ma faremo male se ritenessimo che la presenza di tanti libri di Alleramo significasse che Romagnoli ne fosse un assiduo lettore e lei che lo riteneva un buon interlocutore ecco a porto il buon interlocutore credo che quel fondo rispecchi anche la sua generosità di lettore di recensore di divulgatore quando ho sentito ieri nella meravigliosa magistrale relazione di Canfora fare un cenno al giudizio di Croce su Romagnoli cattivo critico ma credo che non se ne sarebbe adottato forse troppo neanche Romagnoli nel senso che lui si era scelto un'altra posizione che non quella del critico dei valori assoluti o anche dello storico della letteratura italiana ma di di un autore invece che teneva molto alla conversazione sulla letteratura alla mediazione alla valorizzazione non soltanto perché qualcuno forse Patrizia prima diceva delle avanguardie ma anche delle retroguardie perché i gusti di Romagnoli erano molto compositi e valorizzano anche per noi che adesso abbiamo questo fondo tutta una serie di autori di seconda di terza di quarta fila che però meritano la nostra attenzione per tante ragioni e che troviamo lì molto rappresentati più che non diciamo le esperienze più avanzate che nel fondo fatta eccezione per qualche libro futurista non sono presenti in realtà non ci sono i poeti e gli scrittori che stanno affermandosi non c'è Montale non c'è eccetera adesso non ci mettiamo a parlare l'impressione che a me è arrivata da quella ricognizione comunque è che a parte gli aspetti encomiastici il fondo rispecchi però anche una ricchezza di relazioni amicali ed affettive reali cioè l'uomo poche parole per dirlo in maniera non celebrativa doveva essere simpatico e cordiale si capisce che ci si avvicina a lui senza troppe intermediazioni come una persona con cui si sa di poter parlare e poi ci sono le relazioni privilegiate e tra queste relazioni privilegiate alcune sarebbe bello vederle approfondire diciamo in maniera più significativa attraverso documenti più complessivi è ovvio che sono stato molto colpito dalla presenza di quelle dediche di affetto cordiale quasi totale con Luigi Pirandello questa è una relazione veramente importante sia negli aspetti di crescita di una relazione reciproca sentita come molto forte sia anche a me passo di poter dire nel suo allentarsi nella seconda parte delle loro vite perché non risultano più libri di Pirandello post prima guerra mondiale se darne un'interpretazione forte cioè che loro non fossero più tanto vicini per ragioni culturali che qualcuno conosce senz'altro meglio però insomma è vero che questa forte relazione poi a un certo punto non residua né nella biblioteca Romagnoli né nella biblioteca Pirandello altre tracce perché della biblioteca Pirandello sono state pubblicate le dediche in un lavoro molto ben fatto che si può consultare in rete e neanche lì compare più niente che li che li leghi e però anche rispetto ai discorsi importanti di questi due giorni credo che una relazione come quella con Pirandello di là dal dato meramente biografico andrebbe comunque tenuta in conto come uno degli elementi di un contesto significativo perché stiamo parlando del gigante del teatro italiano di quella fase benissimo ancora una volta non ero aggiornato comunque ecco qui mi posso fermare solo per dire che c'è poi questa parte che è sempre suggestiva delle dediche però sappiamo che le dediche qualche volta sono anche un ritualismo una convenzione destituita poi di altro valore oppure c'è anche il caso imbarazzante di due personaggi che sicuramente si conoscevano e si stimavano la dedica del Rubè di Borgese nel quale Borgese come dedica a Romagnone scrive tanti saluti è solo per dire attraverso un esempio che non dobbiamo assegnare a questa a questa tipologia le dediche un valore troppo rivelatore ci sono quelle che ci dicono tante ci sono altre che hanno qualche cosa a che fare con l'automatico e il formalistico sono anche io molto curioso di sapere quando il lavoro procederà e quando potremo avere anche la parte di archivio che ha Angela la quale ha l'importante carteggio con molti dei personaggi che sono anche gli autori dei libri che cosa ulteriormente le cose le carte ci diranno secondo me tanto perché attraverso le lettere questi uomini di quella generazione si scrivevano tanto e anche quell'unica lettera nella quale sono incappato nel faldone in cui si cercavano le foto del teatro antico di Danunzio romagnolo e mi è sembrata l'ho pubblicata in fondo questo mio contributo indizio che ci deve essere tanto altro di prezioso e di interessante su cui come dire interessarci in futuro grazie dunque io voglio solo dire qualche parola perché abbiamo parlato tanto in questi giorni per cui grazie a Fabrizio Rasera anche per questa sua ricognizione che io ricordo il seminario di studi era stato già molto interessante all'epoca quindi non vedo l'ora adesso di leggerlo anche scritto e per quanto riguarda il mio piccolo contributo ho cercato un po' di tirare le somme le fila di quello che ho potuto studiare in questi anni durante la mia esperienza con il dottorato di ricerca a Trento e di proporre diciamo alcune prime alcuni di restituire alcune primissime diciamo alcuni di questi primissimi studi in riferimento alla convergenza che io credo di riuscire ad aver individuato forse tra gli studi di Ettore Romagnoli la sua formazione comunque come grecista la sua la sua vocazione come traduttore e la sua il suo innegabile la sua innegabile passione per il teatro e per la messa in scena quindi nel mio contributo ho tentato appunto di ricostruire come da un lato gli interessi filologici romagnoli avessero influenzato i testi della traduzione dall'altro come la messa in scena ha tentato ha a sua volta influenzato le stesse traduzioni rivolgendosi soprattutto a una appunto a una traduzione come copione teatrale e come testo ad uso di una messa in scena una messa in scena che abbiamo più volte visto anche con gli interventi di questa mattinata che influenza spesso anche le considerazioni critiche filologiche dello stesso Romagnoli per cui il mio saggio il mio piccolo saggio cerca appunto di portare degli esempi concreti prendendo spunto soprattutto dalle traduzioni di Baccanti e di Agamendone e facendo alcune considerazioni anche su quelli che potrebbero essere i copioni delle rappresentazioni siracusane costuditi presso il fondo romagnolo i copioni che sono le traduzioni stampate ma che presentano tantissime annotazioni e tantissimi spunti di interesse che ci permettono forse anche di ricostruire in parte quelle che erano state le performances a Siracusa lascio la parola al professor Piras adesso grazie beh io in questo in questo contributo del 19 che mi ha permesso tra l'altro di conoscere l'Accademia Allergiati e già solo per questo sono contento di essere venuto due anni fa qui ho indagato un po' di un aspetto particolare che già l'italianista il noto linguista italianista Luca Seriani aveva messo in evidenza cioè la passione di romagnoli anche per le traduzioni dal latino e quindi mi è capitato nel 19 di parlare della traduzione di romagnoli del miles glorioso splautino ne ha parlato poi stamattina l'ha ricordata Alice Bonandini questa questa vicenda nell'ambito della collezione romana il corpus romanorum scriptorum che Romagnoli aveva allestito di fatto con evidenti fini da un lato propagandistici ma dall'altro lato di nelle intenzioni almeno di dotare l'Italia di una serie di traduzioni affidabili che potessero essere paragonabili ad altri celebri collane antichistiche diffuse in Europa diciamo un obiettivo che è stato solo parzialmente raggiunto nonostante un certo successo editoriale di questa di questi di questi libri della collezione romana dicevo nell'ambito di questa collezione romana che è stata pubblicata da da Umberto Notari un personaggio importante dell'editoria italiana dell'inizio del novecento dicevo nell'ambito di questa collezione romana che era stata che è stata inaugurata dal paneggirico di Plinio di Plinio il giovane tradotto da da Emilio Faelli nel 1926 nell'ambito di questa collana Romagnoli appunto nel 29 ha pubblicato la traduzione in italiano in prosa italiana tutte le traduzioni fatte per questa collezione che avrebbe dovuto arrivare a comprendere un centinaio di titoli poi ne sono stati pubblicati una sessantina tutte sono in prosa anche se i testi per lo più non solo non esclusivamente ma per lo più sono poetici Romagnoli ha pubblicato l'ha ricordato ancora Alice questa mattina ha pubblicato sia Orazio Epistole Satire e Odi nel 28 e nel 29 sostanzialmente poi nel 20 ancora poi il De Bello Civile di Cesare nel 31 ma nel 29 l'Aulularia e il Miles Gloriosus di Plauto il Miles Gloriosus in realtà l'aveva già tradotto l'anno precedente come aveva ricordato ancora stamattina Alice per in occasione della rappresentazione a Taormina dello spettacolo quello era solo era di fatto un copione per la recita teatrale infatti quel volume che pure è stato pubblicato contiene solamente la traduzione latina invece il volume pubblicato nell'ambito della collezione romana contiene testo latino e traduzione italiana quindi tra 1928 e 1929 sostanzialmente Romagnoli è passato dal tradurre il Miles Gloriosus per rappresentare lo spettacolo a Taormina all'allestimento di quello che voleva essere quello che voleva essere il primo volume di una traduzione di tutto Plauto però accompagnato dal testo latino l'operazione è stata delicata perché comprendeva anche una revisione del testo latino Romagnoli non si è limitato solamente a accogliere un testo latino vulgato ma ha fatto una sorta di edizione rivista quella che i filologi chiamano edizione rivista del testo Plautino sulla base delle principali edizioni critiche molte di queste tedesche tra l'altro degli odiati tedeschi non solo quella più diffusa di Gesserschel ma anche quella di Friedrich Leo ad esempio che certamente rimandava almeno dal punto di vista della storia degli studi ad una posizione ben lontana da quella dello stesso Romagnoli ebbene Romagnoli si è messo a riguardare tutte queste edizioni critiche ha rivisto il testo latino e ne ha fornito una edizione rivista però la traduzione l'aveva già fatta prima di rivedere il testo latino quindi ha dovuto anche adeguare la traduzione questo adeguamento qualche piccola svista l'ha comportata ma questo si capisce perché deve essere stata un'operazione fatta anche con una certa fretta cosa interessante è il modo in cui è stato tradotto Plauto con un'attenzione notevole ai nomi parlanti che Romagnoli ha tramandato Ettore Paratore l'abbiamo menzionato prima Ettore Paratore che poi ha tradotto a sua volta tutto Plauto certamente avendo sott'occhio anche il Plauto di almeno questo volume di Ettore Romagnoli Paratore anche lui si è ispirato un po' appunto a Romagnoli e insomma è divertente io mi sono un po' anche divertente anzi sicuramente non un po' ma molto divertito nel controllare nel soffermarmi sui modi in cui Romagnoli ha tradotto appunto i nomi i nomi parlanti Plautini avevamo già detto del Capitano Spaccone appunto perché Capitano e Romagnoli stesso spiega che Capitano a Roma Capitano adesso non mi ricordo adesso se la ritrovo ecco qualcuno era stato citato qualcuno aveva sollevato i dubbi dopo la rappresentazione Milias in latino vuol dire soldato completo la citazione Romagnoli ribatte che lo Spaccone in Italia è per diritto di nascita Capitano quindi Capitano Spaccone voleva essere quasi un raddoppiamento perché qual è il fine qual è stato il fine il modo con cui Romagnoli ha condotto questa traduzione è stato quello di rendere pienamente godibile lo spirito le invenzioni linguistica le invenzioni teatrali plautine però per un pubblico contemporaneo il fine era quello di rendere godibile plauto ad un possibile pubblico italiano contemporaneo e per far questo Romagnoli ha pensato di adeguare la sua traduzione alla sua sensibilità alla sua cultura diciamo collocando sostanzialmente in un'ambientazione quasi romanesca per certi versi quasi romanesca non tecnicamente romanesca la traduzione e sono divertenti i nomi per cui il protagonista è il soldato Spaccone che è Pirgo Polinice che vuol dire versore colui che rovescia le torri e le città viene tradotto con Romagnoli con Scavezza la Rocca per esempio e che allude al personaggio romanesco di Mannaggia la Rocca che era un personaggio popolare della fine dell'Ottocento a Roma per esempio il Artotrogo il parassita roditore di pane questa è l'etimologia del nome latino diventa Strozza Pagnotte il palestrione diventa forzanello e così via ma l'attenzione all'aspetto linguistico è estesa a tutto il testo latino e ci sono parecchie scelte anche raffinate devo dire con raddoppiamenti affettivi diminutivi un caso interessante adesso se ve lo ritrovo è quello ecco in cui Plauto al verso 648 dice che sono nato ad Efeso sono nato ad Efeso non non in Puglia e non in un'altra sconosciuta città era una battuta che un lettore contemporaneo di inizio novecento probabilmente italiano contemporaneo di inizio novecento non avrebbe capito facilmente e Romagnoli traduce sono nato ad Efeso non in Puglia e non a Carropepe ora Carropepe è una cittadina in provincia di Enna così va tradotto nella versione destinata alla scena nel milenovecento ventotto di Taormina quando ritraduce riadatta la traduzione per la collezione romana dice sono nato ad Efeso non in Puglia e non a Rocca Cannuccia che è una tipica città che viene che fa sorridere soprattutto chi conosce chi è nato a Roma o vive a Roma evidentemente era già così ai tempi di Romagnoli e tante sono le scelte divertenti interessanti dal punto di vista linguistica ne faccio un elenco in questa in questa in questo contributo oltre a osservare quello che vi ho detto sulla sull'utilizzo delle edizioni critiche più raffinate ora ricollegandomi anche a quello che è stato detto alla donazione del fondo alla presenza dei libri Romagnoli la cosa interessante è che poi abbiamo potuto rintracciare nell'ambito del fondo Romagnoli una copia della traduzione fatta per la scena del 1928 del Mille Scloriosus copia annotata da Romagnoli che evidentemente ha prima tradotto e dato alle stampe quella versione e poi però ci ha lavorato per la messa in scena il Mille Scloriosus è abbastanza lungo e lui l'ha voluto ridurre tagliando delle scene perché è un po' troppo lungo si va oltre mille versi quindi evidentemente era troppo lungo per la rappresentazione teatrale quindi si vede che l'ha tagliato l'ha radiattato e ci sono interventi suoi in questo volume che è conservato nella biblioteca civica di Rovereto che testimoniano quindi il fatto che lui evidentemente aveva già preparato la traduzione e poi al momento di lavorarci per metterla in scena ci è intervenuto ulteriormente e questo insomma testimonia la vitalità di questo fondo che davvero mi auguro che possa essere valorizzato sempre di più è una donazione davvero importante davvero mi sento anch'io mi permetto anch'io di ringraziare la famiglia Romagnoli per aver scelto di donare a un'istituzione pubblica questo importante fondo librario archivistico che sono certo certissimo che darà ulteriori frutti per la conoscenza della cultura filologica ma soprattutto più ampia dell'Italia di quegli anni di quei decenni Romagnoli è stato davvero un personaggio così importante e rilevante che sono sicuro che l'effetto per le nostre conoscenze sarà di lungo di lungo termine mi permetto allora un'ultima osservazione si è parlato di Pirandello dell'interruzione mi ricordo forse lei ne aveva parlato già nel 19 di questo è vero mi ricordava mi sembravo adesso vi faccio vedere quella che quasi certamente non è sicurissima la data vediamo un po' cosa si vede si vede abbastanza allarghiamo un po' forse questa è l'aula 1 l'aula magna della facoltà di lettere e filosofia della sapienza quasi certamente è la sua purtroppo non è datata questa foto però quasi certamente questa è la sua prolusione del 36 quando giunse all'università quella che allora si chiamava università di Roma e che allora la sapienza questa è l'aula 1 che adesso è leggermente diversa ma è assolutamente riconoscibile vedete Romagnoli che parla di fronte a un microfono tra l'altro però vi voglio far vedere chi c'è in prima fila non so se riconoscete questi due personaggi non si vede benissimo questo è Pirandello e questo è Giovanni Gentile entrambi presenti alla sua produzione certo è un atto forse accademicamente dovuto insomma visto il rilievo dei personaggi però chissà se forse non è un segno anche di qualche rapporto che continua a esserci certamente con Gentile i rapporti c'erano sono complessi questo poi sarà magari occasione di riflessioni in altra sede però mi fa piacere farvi vedere questa foto che mi era capitato di recuperare nei mesi scorsi e grazie bene siamo giunti felicemente alla conclusione dico felicemente per due motivi primo perché quando abbiamo cominciato a progettare questo convegno l'inverno scorso insieme ad Angela Sara e a Giorgio ieri non eravamo sicuri dell'esito il Trentino era zona rossa si cominciava appena a parlare di vaccini ma nessuno di noi era vaccinato poi per fortuna la buona sorte e la vaccinazione ci ha permesso di portare a buon fine il convegno l'altra ragione di grande soddisfazione è che mi sembra che si sia creato con questo convegno una congiuntura tra da una parte la firma volontà dell'Accademia degli Agiati di valorizzare il patrimonio romagnoli e quindi l'opera del grecista e dall'altra parte i contributi scientifici offerti in queste due giornate di convegno che hanno tracciato un profilo autentico dell'uomo romagnoli e dell'intellettuale romagnoli sgombrando il campo da giudizi forse un po' frettati forse superficiali in certi casi qualche volta ingenerosi che in passato ci sono stati nei suoi confronti e mi par di poter dire che le parole di Luciano Canfora ieri pomeriggio a questo riguardo sono state molto illuminanti e qual è adesso il compito che ci aspetta è quello evidentemente di lavorare insieme all'amministrazione comunale per come è stato detto da più parti anche poco fa per completare la catalogazione di questo fondo che più ne parliamo e più scopriamo veramente delle perle più scopriamo comunque che ci sono occasioni di approfondimento di ricerca ulteriore per come diceva il professor Piras ampliare gli orizzonti sulla temperie storico-culturale dall'inizio del secolo e poi nel periodo fra le due guerre io ringrazio sentitamente tutte le relatrici i relatori spero che Rovereto vi abbia colto bene e auspicuna rivederci e sono certa che ci saranno altre occasioni di incontro e vi auguro di buon viaggio e di ritornare alle vostre case e ancora ringrazio Angela Romagnoli la signora Maria Teresa Loiacono che ha seguito attentamente tutte le relazioni del convegno e Giorgio Ieranò per anche l'alto contributo scientifico che ha offerto per la preparazione di questo convegno grazie ancora e a presto grazie a tutti